buonasera ragazzuoli buonasera 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 ciao a tutti buonasera buonasera bene bene grazie mary v mary v regala al buonamenti grazie a me ria il suo modo di salutare le quando arriva prima regalamenti poi saluta ciao mari che raccoma 95 si è risubbato per il dodicesimo mese quindi siamo arrivati l'anno con noi siamo arrivati alle 12 vi ricordo questo canale fa un anno il 4 maggio che è lo stesso giorno del compleanno di star wars e di adriano santucci di star wars di star e invece lorenzo torello per l'undicesimo mese quindi ragazzi sono numeri importanti quelli che si stanno guarda guarda quanti c'è cxx baslexi il decimo mese a maccabana per il settimo mese ammazza che cxx per l'ottavo mese ma che male che ha funzionato che ha donato anche un euro e 01 dicendo questo mercoledì mercoledì od ora di martedì ci pensate voi a mettere a posto la croccantezza che mi si è spasata sì lo siamo ci pensiamo noi ci pensiamo noi ecco lo sapevo già glielo ho detto non posso abbassare il volume di marco cioni deve farlo da solo marco impostazioni audio microfono e bassi il mio prima pensavo che tu mi stessi solo bullizzando ma come tipo stai zitto no no io non ti bullizzo ma ti voglio troppo bene meglio 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 di luke 98 tp che dice la corsa per rasare gianni si fa seria è sì ragazzi siamo a 2046 47 una cosa del genere è tosta è perché l'obiettivo è quello di dover arrivare a 4.500 per sbloccare la notte degli oscar in live perché vi ricordiamo che noi il 25 aprile la domenica dal pomeriggio saremo comunque in live con un sacco di ospiti ragazzi stanno uscendo dei nomi che voi non avete idea nomi che io piango se ci penso che dovrò stare la ospiti di quella della live di domenica quindi mi raccomando domenica 25 aprile dalle ore più o meno 12 13 siate qui fino alla sera poi se arriviamo a 4.500 iscritti entro il 25 aprile cioè se completiamo questo counter che sta qui sopra sblocchiamo la notte degli oscar in live cioè noi che continuiamo poi a stare in live tutta la notte a seguire mi dissocio minghe della della notte degli oscar vera e propria inizio gianni nell'ultima un paio di settimane una settimana fa ha detto che non solo ci sarà questa cosa ma se raggiungiamo 4.500 lui si raderà in live i capelli ovviamente ma tanto lo facciamo uguale allora ragazzi anche perché spero che non ci siano altre parti da radere allora serata scoppiettante ci abbiamo due ospiti molto importanti lo già lo sapete sono matios che victor laszlo al momento c'è nel backstage che ci aspetta matios che io direi di farlo entrare così lo salutiamo ci saluta tutti e lo faccio entrare flexando il mio bicchiere di vino con dentro uno squalo ammazza che maestro che è bellissimo è bellissimo ed ecco mattia ciao mattia buonasera buonasera come va allora io allargo il mondo qui qui siamo più grossi siamo attenzioni romano 45 marco cioni attenzione che è successo ha regalato 5 abbonamenti le ha regalati a rock nart rubber chicken 88 mckay 91 leo francia 99 nardo shinobi prima o poi arriveremo a fare l'orto eroglio forse proprio per vedere gianni che si trate i capelli in diretta potrebbe essere io vorrei fare un sondaggio così subito rovino la vita ai moderatori che salute intanto giacomo e andrea vorrei sapere se la gente si abbona di più per fare la notte degli oscar o per vedere gianni pelato è un sondaggio che mi interessa molto grazie di farlo partire in questo gianni pelato esiste già è semplicemente un pochino nel suo futuro ma esiste già gianni pelato voi per nolan già esiste tornato indietro andata avanti nessuno ci ha capito un cazzo poi sfracellato un aeroplano si è successo di occasione di insultare non a giovani mai mai neanche un ecco ecco il sondaggio in chat per adesso sta vincendo gianni pelato è ragazzo non avevo dubbi ma infatti è da stupidi vado a fare il content quello era che cazzo possiamo anche non fare la tegiosca mettiamo gianni pelato stiamo già a 4.000 secondo me allora mattia esatto ma edrian e noi chiediamo sempre di presentarsi all'ospite che viene anche se non è la prima volta che vieni però insomma raccontaci un po chi sei cosa fai questo per un canale youtube da lontano 2010 da qualche anno conduco uno show quotidiano su notizie cinematografiche seriali mi hanno dato diversi aggettivi recensore critico io li rigetto tutti al massimo abbraccio quello di analista poi così un po per divertismana socio sempre c'è la lista e mi piace parlare soprattutto di cinema di intrattenimento e credo che stasera sarà questo il caso quindi capiti proprio a cecio a fagiolo per caso in questa in questa puntata per scrivere in questa prima opinione sarai giudice con me quindi avremo in utente come al solito che ci ha mandato a opinioni pericolose chiocciola gmail.com la sua opinione pericolosa e il buon gianni avvagliato ha ricontattato ha capito ha sentito ed è stato selezionato quindi io ricordo sempre che se volete partecipare potete mandare la vostra opinione pericolosa appunto a opinioni pericolosi chiocciola gmail.com mentre invece mentre invece ed è il momento penso che tutti quanti star stiamo stanno aspettando nella seconda opinione avremo possiamo dirlo no marco non è un segreto ovviamente ho fatto ci sarà il 500 stories esattamente il buon victor il buon victor laszlo che porterà a lui la sua opinione pericolosa a proposito di justice league e invece mati oschi anziché essere giudice con me a quel punto andrà dall'altra parte rispetto a victor quindi nella fattispecie matioschi sarà in difesa e victor strane all'attacco sei pronto non era la mia l'opinione pericoloso infatti a mattia che si è sbagliato io non ho infatti tu sei in difesa si ho invertito però giusto perché è difesa infatti mattia contro mattia adriano stai adriano ancora dopo pasco che è mangiato a pasco adriano di la verità che te sei mangiato avevo scritto bene ma poi perché io a difendere la snyder cut non ce la faccio proprio quindi si invertite ruolo così a sorpresa poi impazzisca no tu sei no perché tu sei in difesa ma sei tu che porti l'opinione quindi sei in difesa della tua opinione ok ok chiaro senso quindi marco che dici vogliamo e c'è già l'ospite allora alice che è una nostra vecchia conoscenza è già lì nel backstage che sta attendendo e la vedo che si prepara si sistema alice c6 accenditi il microfono gara perché ok perfetto ragazzi nel frattempo si va per vincere gianni pelato ma era ovvio che volevano tutti gianni pelato ragazzi alice ciao gara ciao buonasera alice alice che è stata già ospite con noi con me giovanni in un quasi quiz qualche mese fa prima di natale era novembre inizio novembre si e alice anche nel gruppo telegram c'è lì c'è una affissionata 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 scoperto il canale twitch di slim dogs perché frequentavo il canale twitch di giovanni giovanni santonecito non lo dir non c'è bisogno di mai che il mio canale di c'è più bello di questo però sappiamo noi lo sappiamo noi alising questa è la opinione pericolosa che alice porta stasera allora discutiamo ne discutiamo ne va bene possiamo farlo tanto il mio canale c'è più bello di questo qua e ma pazienza accusa la slim dogs quindi io farei una puntata apposta poi su quando voi dovete sapere che inizialmente il canale il canale twitch di giovanni santonecito era praticamente il canale su cui sperimentavamo le cose alle meta bene sul nostro canale aspetta io ero convinto di aver aperto il mio canale marco giovanni mi ha usato come cavia da laboratorio in realtà aveva un'altra cosa ho piazzato la serie telecamera in casa sua è adatto per chi non ci ha seguito all'epoca alice raccontaci un po di te che fai dove sei che dici allora io sono di tivoli in provincia di roma e nella vita lavoro nel settore teatrale e in particolare io lavoro per un'impresa che si occupa di più ambiti all'interno del teatro e io sono manager di tre compagnie teatrali nello specifico e una cosa che non ho detto l'altra volta che mi sono dimenticata chissà perché è che io lavoro anche in un festival che si svolge nella provincia di frosinone che si chiama castellinaria e lì sono assistente della direzione in particolar modo sono la vice della direttrice organizzativa e e quindi molte cose fesseva sempre professionista rispetto a noi sembro è quello essere tempo usare ufficialmente a vince gianni pelato il sondaggio volevo dire il sondaggio e festival di che cosa di che si sempre un festival teatrale noi lo chiamiamo è un festival e diciamo under 33 perché c'è un po stufato la dicitura under 35 e il periodo è tutt'altro però va bene c'è anche quello nel form c'era anche quello ok capisco questa discriminazione però va bene e prima del covip avevamo tre appuntamenti la sera facevamo all'ora dell'aperitivo un praticamente il festival si svolge all'interno di un castello e nel borgo intorno e fuori dal castello facevamo all'aperitivo delle piccole cose da piangere quando dice aperitivo poi a cena cioè diciamo alle 9 alle 21 attrezzato nel castello e poi alla fine concerto post post spettacolo e se c'è la possibilità discoteca quindi un ha detto tutta la serie di cose che mi facevano fanno malissimo ti dico di più avevamo anche birra profusione pizza e panini è andata via la linea avevamo birra profusione se birra artigianale pizza panini insomma era festa grande finale scusa per quest'estate non c'è niente in programma di aprire di fare noi abbiamo già fatto anche quest'anno noi senza completamente diverso abbiamo fatto una serata sola uno spettacolo itinerante della nostra direzione quindi completamente diverso quest'anno dovremo quantomeno rimettere gli stand però lo stiamo capendo adesso anche perché proprio oggi hanno dato la possibilità a quanto pare di no di avere la gente agli stati per gli europei di calcio quindi certi 15 mila persone in uno stadio penso che poi un festival si possa fare lo sai come funziona che il calcio viene trattato in un modo il teatro in un altro purtroppo va bene va bene ma prima di incazzarci del tutto dopo con questo questa amare riflessioni a questo punto entriamo nel dio della puntata io direi siamo ci vedete e quindi caziamoci veramente le cose delle cose serie e quindi io direi di chiedere ad alice qual è la sua opinione pericolosa cioè qual è appunto qual è allora la mia opinione pericolosa è che the eternal sunshine of the spotless mind è un film sopravvalidato bene ragazzi la puntata di stasera finisce qua titoli di coda arrivederci grazie eccola qua scusate sapete io il teatrino lo devo fare va bene va bene è molto pericolosa qui posso dire che è molto pericolosa con nome delle ultime che abbiamo fatto effetti non mi ricordo così hard mi sembra un attenzione in chat qualcuno è d'accordo addirittura non aspettavo per niente mega d'accordo dice mega d'accordo si sono d'accordo madonna posso solo dire io ho cercato delle recensioni negative di questo film e ne ho trovata una sola del 2009 su ma di pari di 86 critico cinematografico che fa parte insomma di tutte quante le varie ma perché ragazzi questo dimostra che è una vera opinione pericolosa c'è solo pari in tutta italia ha avuto l'ordine di scrivere una cosa di varie se ci stai seguendo scrivi in chat alicia e sappi che io sono molto affezionato è stata al quiz il mio canale le cose no 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 però giovanni comunque continuo a leggere la chat io ai tuoi neri scimm hanno aspetta peta e neri ship anch'io sono d'accordo dunks 01 d'accordo now years il grande pari te vedi che comunque non è così ma sì ma c'è un sacco di gente che non capisce un cazzo di cinema c'è mica ce ne stanno pochi ce ne sono tantissimi dai ragazzi il teatrino come dicevano poco fa in chat e comunque alice è un gioco il migliore di leto quello sempre ah beh quello è quello per quello chiunque chiunque non so se lo sai c'è stata una ragazza poco tempo fa cecilia si chiama che ha portato la opinione pericolosa che il gioco di gered leto è il migliore della storia da qui è nato questo meme lei lei questa ragazza è un agglomerato di opinioni pericolose invece un altro paio durante e lei secondo me lei era per se io dovessi scegliere qualcuno che mi difende da un'orda di zombie a sceglierei lei perché c'è una capacità combattiva non indifferente scusa dire ma ma questa mi sembra bella grossa mattia c'è avrai il tuo secondo round mi sa che hai già capito va bene adriano allora possiamo procedere e entriamo nel vivo io voglio iniziare veramente a vedere gli animi che si scaldano quindi voglio mettere marco cioni in difesa proprio mi dispiace tanto davvero i tuoi giorni scusate posso fare una domanda ad alice stiamo dicendo che ha sopravvalutato quindi se tutti quanti di 10 e lote noi stiamo dicendo che è da otto e me ne ho capito come se la vuole giocare ma adesso le buoni 7 più ma non va bene va bene va bene ci posso stare mattia penso che sia giusto come parametro che tutti vi dicono che sia da 9 o da 10 loro se mi dicono che da 7 è sopravvalutato ci sta ci sta ci sta allora come funziona mattia sarà in alla giuria ingiuria con me e quindi abbiamo alice marco cioni in difesa da questa parte che è specchiata rispetto a quello che marco cioni sta di là io sto sempre al lato frigo marco cioni sta dall'altra parte un'altra parte è dall'altra fase qui c'è ci sono mai e qui c'è il buon gianni esatto ok allora come al solito due ring e iniziali c'è poi alla fine sondaggio di voi della chat per vedere chi vi ha convinto vi ricordo che dovete votare alla fine ci sarà il sondaggio e dovrete votare solamente cercando di dare il vostro voto rispetto a quello che viene detto qui adesso cioè se poi loro sono bravi e vi fanno cambiare idea in tutti e due i sensi voi dovete votare rispetto a chi è bravo questa sera quindi alice vai al tuo momento prego allora io anche forse questo marco ti aiuterà io ho diviso le mie ring in due modi nella prima voglio parlare un po di tutto quello che è secondo me che lo rende sopravvalutato e nella seconda invece concentrarmi su un argomento in particolare e focalizzarmi su questo allora come dico è sopravvalutato cioè nel senso non è un brutto film assolutamente è un film carino è godibile ma non è questo copolavoro che tutti vanno sannando dal mio punto di vista partiamo dall'inizio dove ci viene presentato joel come un ragazzo si vede subito estremamente timido introverso e dice una frase molto molto precisa dice non riesco a guardare una donna negli occhi se non la conosco quindi che cosa succede lui poi incontra immediatamente dopo clementine quando siamo sul treno lui la importuna quindi si avvicina lui non riesce a scacciarle può starci perché rientra nella gratis caratterizzazione del personaggio poi però c'è qualcosa che storce un po il naso perché lui va a casa di lei torna a casa la richiama c'è tutta quella scena carina sul ghiaccio va bene però tutto questo serve a introdurre la storia capiamo che c'è qualcosa c'è qualche tassello che manca e i tasselli che mancano e arriviamo al primo punto secondo me negativo lo inseriscono gli amici di joel che raccontano che clementine l'ha cancellato e vi dico che il primo punto negativo perché i personaggi secondari sono completamente inutili cioè nel senso hanno poco peso all'interno del film servono solamente a generare una causa effetto quindi gli amici servono a dire clement ti ha cancellato e quindi lui per riticca cancella cerca di cancellare clement nella sua memoria mary serve unicamente per la fine per spedire queste cassette ma all'interno della storia quello che succede a lei ce ne può fregare molto poco scusate francesi e mentre invece mark raffalo e elijah wood servono solo a infastidirci durante la visione del film quindi queste e quindi è in questi personaggi servono solo per allungare il brodo praticamente portare il film a un non mi ricordo se dura due ore un'ora e mezza quello che è comunque a allungare il brodo tornando al discorso di la caratterizzazione invece di clementine e joel è fatta molto bene perché noi ci rendiamo conto delle loro differenze del fatto che joel sia come vi ho detto prima timido introverso molto chiuso in sé stesso invece lei ha un carattere focoso è iperattiva cioè e ce la caratterizzano anche nell'abbigliamento questi capelli colorati blu rossi arancioni colori molto accesi anche nei vestiti e che cosa ci fa capire che sono due persone completamente diverse che vivono una storia che li fa star male e tutti i ricordi che noi vediamo sono tutti ricordi brutti non c'è c'è solo un ricordo felice solo uno nel momento in cui lei gli racconta di questa bambola brutta e che lui dice sei bella sei bella sotto le coperte ma sono è vero che partiamo al ritroso quindi dalla fine di una storia ci sta ma in tutto il tutti questi ricordi vediamo un joel completamente preso da una donna che non lo ama che non lo può amare e dire questa storia di un amore che dal mio punto di vista è un amore malato perché entrambi si fanno solamente del male a vicenda perché non sono fatti per stare insieme quello che il film vuole dire è loro sono destinati a stare insieme perché anche calcellandola tornano insieme ma no è sbagliato è qualcosa che distrugge sia lui che lei lei da una parte perché lei stessa dice io non mi piaccio io non mi riconosco io sarò se torniamo insieme io sarò triste sarò in trappola dice io sono in trazzo io sono in trappola alla fine del film e lui che cosa risponde ok perché pensa soltanto a se stesso quindi concludo e poi dopo l'approfondisco è la parte di vorrei approfondire dopo dicendo che è un amore malato per la quale lo spettatore non può fare il tifo non può essere partecipe noi rimaniamo freddi e distaccati a guardare una storia da fuori che non ci rende invece non ci permette di essere all'interno ma soltanto dei meri spettatori e alla fine non ci lascia nulla se non almeno a me tanta rabbia perché sono due persone che possono solo farsi male e e non sono invece destinati a stare insieme allora attenzione perché intanto prima di dare la parola all'accusa volevo leggere un commento che è passato di un pizzarrone si chiama che dice e la javud serve solo ad allungare il frodo perché il calice è detto brodo e quindi bravo già anche molto interessante molto interessante inizia gianni tutti a farlo dai gianni forza gli rispondi io rispondi a marco e la javud non voglio non voglio rispondere ad alice perché non voglio essere cattivo stasera voglio essere brava dice non lo so lo so però va bene allora vado io alice trovato dei personaggi secondari attacco per frontale personale di gianni che inizia con alice personale propria persona non hai parlato di personaggi secondari no e li hai descritti appunto come un po noiosi poco caratterizzare poco influenti a livello della storia secondo me il problema grosso è che questi personaggi cioè quello che magari non ti è stato subito chiaro ma se noti tutti i personaggi secondari sono una manifestazione di un tipo di relazione differente così gli amici per esempio di cosa di joel sono effettivamente la coppia sposata un po instabile che litiga sempre ma che alla fine si vuole bene stessa cosa mark raffalo che è quella persona che vorrebbe tanto stare con mary jane non mi ricordo il nome nel film di preciso solo chiesti in dance volevo fare riferimento a spider man voleva stare con mary no quindi è il prototipo della pienzone paradossalmente la stessa cosa è la e già wood per certi versi cioè quella persona che cerca di sfruttare l'occasione per poter avere una ragazza che l'hai già avuta anche detto il merda in questo video il merda la cosa la cosa secondo me da mettere in chiaro è che se mi lasci ti cancello se vogliamo dirlo con il titolo italiano eternal sunshine no grazie gianni non è semplicemente un film di personaggi ma è un film di archetipi ok cioè quello che cerca di fare lui è prendere dei personaggi ed elevarli ad archetipi a metafore della vita dell'amore ok e infatti ogni volta che cosa ma niente sto leggendo un commento perdona o che ha scappato la risata gianni mi prego alza il volume di quel microfono perché sono vicina però pure avvicina di fai qualcosa amo così grazie meglio adesso si raggi e giovanni è collegato vien dovena con la chat no io quando leggo 100 persone che dicono la stessa cosa che pensano che siamo deficienti è zio ma io per me su twitch la cosa più importante è la chat è la cosa più importante di tutti quindi se si lamentano dobbiamo trovare il modo di risolvere il loro problema è giusto ok quindi stavo dicendo la storia di amore tra joel e clementine è solamente un pretesto per metaforizzare sul concetto della storia d'amore in generale ti faccio un esempio molto palese oggi come oggi quando noi ci lasciamo con una persona che cosa facciamo forse questo film forse paradossalmente ancora più attuale oggi che allora cancelliamo i ricordi che abbiamo sui social oppure eliminiamo dagli amici o cancelliamo il numero di telefono perché in questa maniera noi crediamo di cancellare un'esperienza fatta ma non è così è quello che ci vuole dire il film tu non puoi cancellare un'esperienza e infatti la morale del film stesso è quella proprio di farti capire che l'amore va oltre ogni tipo di scienza oltre ogni tipo di ragione va oltre ogni tipo di volontà razionale proprio perché è un sentimento e questo sentimento non lo puoi cancellare e questa la cosa di questo film ed è scritto in una maniera tale che ti arriva potente e soprattutto lo fa lo mette in scena con una difficoltà perché effettivamente il film è mezzo fantascientifico e lo fa in una maniera secondo me eccelsa è il tuo fcc ha finito sei sicuro gianni di aver finito se vuoi consiglio comunque sto ridendo molto a tutti i titoli che stanno scrivendo in chat tipo se mi lasci ti cartello se mi lasci allora io per prepararmi perché non sapevo dove hai finito vari del 86 esatto no ho visto chiarissero il film e devo dire che una delle cose che mi ha colpito di più partì ovviamente prevenuto sul fatto che l'opinione fosse difficilmente sostenibile speravo di essere all'attacco ovviamente mi ha toccato stare in difesa la cosa che mi ha colpito di più rivedendo il film è che secondo me è invecchiato male per farmi parlare serio è invecchiato male perché perché al livello c'è se tu vedi grandi film quelli che sono veramente film da 9 da 10 tipo giurassic park ma anche blade run alien sono tutti i film che parlano cioè che ti inseriscono l'elemento tecnologico che poi anche quello che fa un po di eternan sunshine of the spotless mind anche se ovviamente non è il focus centrale però se tu rivedi oggi giurassic park te ne sbatti il cazzo che poi è tecnologicamente arretrato ed è far ridere certe c'è alcune delle cose che fanno lo stesso per il blade ridere mai no vabbè far ridere cari mai non hai capito nel senso che oggi vedi il computerino con lo schermo così il tubo catodico e dici ma che non dici che cazzo stanno a fa perché sai talmente tanto dentro il film che funziona ieri rivedendo questo film nel momento in cui mark raffalo hulk e frodo entrano nella stanza dei maschi jean carri e gli e piazzano in testa sto scuola basta puntellato da costa fariano proprio sì che tutti i cavi che parto da computer generici che mandano delle del cervello che gira che non si capisce ti giuro c'è stato un momento in cui ho pensato ma come cazzo hanno fatto all'epoca a pensare che sta roba fosse credibile c'è zero credibile tutta la parte centrale del film che è ti cancello i ricordi e ti vado a operare cioè comunque c'è della fantascienza in questa roba poi non è non è un film fantascientifico ovviamente però c'è della fantascienza in questo tipo di impianto non funziona per niente perché praticamente quello che tu vedi a mark raffalo che sbatte di le dita sulla tastiera e dice no fanno ruggendo si è fatto precede troppo grosse per cui sbatte male infatti poi arriva il vecchio che anche lui non capisce un cazzo quello sta guardando evidentemente e quindi c'è a livello proprio di impianto secondo me è invecchiato male perché non ti spiega nulla di come funziona questo processo non non ti spiega nulla di di come effettivamente questa roba è approcciata il meccanismo intorno a cui rotto tutto il film che a questa cosa della cancellazione dei ricordi risu è esposa dice allora ragazzi scusate approfitto per ringraziare quindi stevas 94 che credo abbia regalato 5 abbonamenti sicuramente grazie stevas aspetta che alice si era riconnesse rigaduta aspettiamola un attimo possiamo passare avanti nel frasi e marco vai avanti figure di e quindi cosa aspettiamo eccola sta tornando ecco alice scusate voi una capo di tempo fa così voi immaginate le regioni di lavoro che ogni tanto prende sparisca la stessa tecnologia di e questo secondo me è la prima becca di questo film che non lo può lo porta da a far scendere il voto da quel nove e mezzo che tutti quanti diciamo millantano a un film medio l'altra cosa che secondo me è veramente ancora sbagliata all'interno di questo film è elijah wood ragazzi il personaggio di elijah wood è una macchietta del cazzo che dall'apri dal primo momento in cui tu lo vedi vorresti solo menargli non ti interessa ma non perché non perché è il merda dicevo prima è proprio perché sceglie ruoli così bravo a livello dice è proprio è proprio inutile cioè non ti fa neanche incazzare nel senso è semplicemente è proprio stupido e inutile a livello di di trama è proprio potevano metterci potevano metterci che ne so comparsa numero due a fare quel ruolo e lui c'è ed era la stessa cosa perché noi non dà nulla al ruolo 0 completamente inutile e secondo me questa roba si ricollega a quello che diceva lice dei personaggi secondari perché anche che il stand dance in tutto questo alla vale alla profondità e la valenza recitativa di una pozzanghera più o meno perché di base quello che fa è fare mezza nuda sostanzialmente quindi fare un po quella ragazza che un po gestisce la sua sessualità in maniera molto libera e poi tirare fuori il finale di mary jane che rosica e quindi manda le casette a tutti quanti per dare la possibilità allo sceneggiatore di chiudere il cerchio e far ascoltare i due protagonisti le cassette però altrimenti lei all'interno del film cioè non ti dà niente perché la storia col vecchio è scontata e banale fin dalla prima dal primo momento in cui li vedi insieme questo grazie ciò ma cacchè ma che è stato io voglio dare la parola a giovanni giovanni mi raccomando io nella storia quando abbiamo cominciato a fare questo format ho pensato va bene capiterà di dover difendere il padrino probabilmente mi dovrà capitare difendere star wars probabilmente magari puoi ritorno al futuro ma mai mai the eternal sunshine of the spotless mind perché se mi lasci di cancello è un titolo che è un distributore probabilmente ubriaco della e goals pictures ha deciso di dare a questo film solo perché siccome ha visto jim carrie non ha visto il film probabilmente l'ha visto non ci ha capito un cazzo e gli ha dato un titolo italiano da commedia terribile questo film è un cazzo di capolavoro senza se senza ma ora tutti sanno che io sono molto perentorio no quando dico determinate cose e dico ne esco dicendo ragazzi è così ed è inopinabile in questo caso inopinabile ma proviamoci lo stesso allora il film non è un film su una storia d'amore è un film sull'amore che sono due cose assolutamente differenti perché una sto a parte che non capisco perché un film su una storia d'amore deve per forza raccontare di un amore positivo quando esistono anche di magma dice che forse quello distributore legal pictures era paride può essere era paride odiava questo film e gli ha dato un titolo di merda e dopo le hanno a vedere per sbaglio no poi è andato al cinema non sa se ricordava scaricato in inglese capito pensando che fosse quindi stavo dicendo e me so perso grazie alice è un capolavoro perché lo dici tu stavo dicendo le storie d'amore non devono raccontare solo esclusivamente di amori positivo di storie d'amori positivi perché esistono anche quelle negative e non vedo perché il cinema che è un mezzo per raccontare delle storie debba sempre solo raccontare tutto quello che è bello tutto quello che fiorellini e tutto quello che è meraviglioso e non può anche raccontare l'altra parte dell'amore perché ci sono tutte e due le parti dell'amore in questo caso insieme personaggi secondari si raccontano diverse sfaccettature di quello che può essere l'amore nel caso di joel è mandarina mi piace chiamarla mandarina la loro storia d'amore è destinata per un motivo per un altro perché i poli opposti si attraggono e non c'è verso è possibile perché sono due personaggi sono due persone completamente differenti l'una dall'altra e non riescono a stare lontani il messaggio di questo film la cosa pazzesca di questo film è che nonostante esista questa tecnologia fantascientifica e fantascientifica non vuol dire per forza entrare dentro l'umbrella corporation e fare chissà che cosa può essere anche una tecnologia che viene sviluppata e utilizzata in studi molto più piccoli il problema è che il film non parla della tecnologia neanche un po è un mezzo quella tecnologia quindi di conseguenza poteva essere anche un caschetto non come il casco che si vede nel film che alla fine è realmente esistente cioè non fa quello che nel film dice che fa però le radiografie del cranio esistono cioè quello abbiamo fatto pure un aneddoto al quiz esatto quel casco è assolutamente esistente cioè funziona non cancella la memoria delle persone ma funziona il cancellare la memoria delle persone è solo il mezzo per raccontarti questa storia per farti rendere conto che nonostante queste persone per un motivo per un altro decidano di dover cancellare l'esistenza dell'altra persona dalla loro vita comunque non ci riescono comunque non ci riescono non ce la possono fare quando riescono da un certo punto di vista a farlo alla fine che è anche l'inizio del film infatti qui in questo film i titoli di coda arrivano dopo più o meno un quarto d'ora addirittura forse pure di più perché l'inizio del film è la fine del film che in realtà non con non finisce ma continua è un cerchio l'inizio del film è proprio la parte finale dopo che tutte e due sono riusciti in qualche modo a cancellare le loro memorie alla fine si rincontrano e per un qualsiasi strano motivo sono ancora tratti l'uno dall'altra e può essere malata può essere brutta può essere cattiva come storia ma è una storia d'amore e non capisco è un film che parla d'amore dove mette racconta anche questa storia d'amore e non capisco perché una storia d'amore come quella raccontata da michelle gondry un regista della madonna della madonna e nella seconda parte parleremo pure michelle gondry è scritta da charlie kaufman un tizio che ha vinto un premiuccio che su questo format ogni tanto un premio incredibile ogni tanto un premio di merda dipende dalla bandiera fatto sta che comunque per questa sceneggiatura ci ha vinto pure l'oscar è una roba anche teatro sì perché ma perché questa storia perché questo tipo di storie non devono essere raccontate devono essere raccontate pure queste e questo film the eternal sunshine of the spotline spain d'anzi adesso correggo pure l'opinione qua sopra lo fa in maniera stupenda è un film tremendamente emozionante bello stupendo bla bla comunque io ho un'altra opinione pericolosa l'opinione pericolosa che il distributore ha fatto bene a dargli quel titolo se il distributore voleva vendere ha guadagnato 10 milioni di euro quel film col titolo ring e della mattina guadagnava 5 va bene va bene allora prima di ricominciare con le ringhe mattia è tu se vuoi puoi senza ovviamente far capire senza sbilanciarti e far capire cosa sta iniziando a ragione a pensare di questa dalla discussione questa cosa ne stai traendo se vuoi fare delle domande per magari dirigere se vuoi gli argomenti capire di più una cosa piuttosto che un'altra per renderti meglio conto dell'opinione diciamo che si sta parlando molto del contenuto a livello di sceneggiatura del film ed è molto interessante ma dato che si parla di sopravvalutazione io vorrei capire quale aspetto è stato sopravvalutato in particolare e in cosa consiste esattamente ok ok vabbè io ok credo che comunque il concetto sia sopravvalutato rispetto al successo all'opinione comune che ha ottenuto l'opinione comune cioè quali aspetti sono gonfiati cioè quali sono proprio le cose che non è così speciale ok ok un po più nel dettaglio vai alice ok allora intanto vorrei iniziare rispondendo a gianni al discorso del oggi anche noi no blocchiamo e tutto io sono una di quelle cioè di uno ho bloccato il colpo di un altro ho buttato la qualunque con il mio attuale fidanzato mi ero lasciata già stai buttando qualcosa no quando stavamo prima ho buttato della roba sua e lui ancora me lo rinfaccia oggi quindi sono una di quelle ma poi ma poi non sei una rancorosa diciamo no niente niente ti prego dimmi che non hai buttato fumetti però no perché quelli che non devo ridare se no poi mi ammazza marco dopo questa live lei butterà il computer comunque quello che volevo dire è che nonostante noi facciamo queste cose non abbiamo solo dei ricordi negativi della persona con cui siamo stati insieme non parleremo solo male di quella persona perché altrimenti non ci saremo stati insieme quindi avremo anche delle idee positive ci sarà un motivo per cui avremmo fatto questo avremmo bloccato e tutto ma non avremo soltanto idee negative di questa persona cosa che invece hanno clementine e joel mentre invece rispondendo a matti occhi e lo dici che dal film traspare che loro hanno solo ricordi negativi sì e anche quando parlano nelle cassette cioè lei poi aspetta me lo sono scritto lei dice è noioso mi ha cambiata è sempre sono sempre arrabbiata non mi piace quando sono con lui non mi piaccio più non sopporto guardarlo lui ha un sorrisetto fiacco una rietta contrita un'espressione merdosa da cucciolo ferito questa è la descrizione che lei da di lui non c'è una cosa positiva non c'è lui dice non è molto istruita non ha non ti posso parlare con lei di libri perché una tipa da riviste a un vocabolario scarso sono in difficoltà in pubblico quando sono con lei è volgare dice un sacco di parolacce è ovvia quando trova una cosa positiva nel suo essere così estrosa nel cambio di capelli che cita poi subito dice che non porta a niente che questa cosa è irrisoria quindi riesce anche a distruggere l'unica cosa positiva che ha trovato in lei e poi insomma dice che altre cose dicendo che lei per piacere alle persone che può usa il sesso e che soltanto in quel modo può piacere o promettendo questo può farlo quindi dice non la conosco sprecato il mio tempo quindi sono cose negative non ce n'è una buona quindi sì si possono raccontare anche le storie di questo tipo per rispondere a giovanni senza dubbio ma possibile che nel non c'è proprio un aspetto positivo attesa riuscito dando solo quando si sono lasciati non stai citando tutto il resto comunque scusa di tutto il resto non c'è problema cosa c'è di tutto il resto perché le 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 i momenti belli quali sono quando su un ristorante non si parlano e lui gli dice io non voglio essere aspetta che ho scritto pure questo io non voglio essere un una coppia per cui si prova compassione come morti che mangiano e lei dispone lui sarà poi ubriaca e stupida e lei gli fa l'unica cosa che gli dice di togliere i peri dalla spugna perché fa schifo c'è nel senso si può va bene tutto ma che cosa c'è di positivo a parte quel ricordo lì nel come ti ho detto prima anche nel letto c'è anche quando si sono conosciuti che è l'ultimo ricordo non è che dovrebbe essere quello bello lui che cosa fa lui se ne va perché a disagio perché non riesce a sopportare la situazione perché lei lo mette in difficoltà in quel momento perché lei è così scusate questa volta potresti restare questa volta potresti quindi perché alla fine devono tornare ci devono per forza dire che tornano insieme perché non c'è nessun senso lei anche gli dice un certo urlando scusate è tutto rosso c'è la guerra lì ceduti sfoghi qua nella vita sei più tranquilla comunque ho letto adesso il commento di barba che bravo non tornare insieme ormai loro non tornare insieme ma chi l'ha detto lei alla fine c'è a parte che non lo sappiamo che non è vero ma comunque il film è appunto tornare insieme alla fine e comunque tornando alla domanda che ha fatto macchioschi è non è che è sopravvalutato a parte che le persone che ti dicono che è un capolavoro non ti spiegano mai perché allora io ho fatto io conosciuto questo film senti ho conosciuto sto film all'unità un corso di critica cinematografica e il l'assistente del professore no l'ho fatta a milano quindi non poteva iniziare con iniziava con figa stiamo parlando e di film insomma no così tirate fuori film che avete visto insomma bla 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 e tira fuori questo film che io non avevo mai visto no è un capolavoro è un film bellissimo dovete assolutamente guardarlo sulla vita senza spiegare un perché poi incontri altra gente grande professore viene da dire tra l'altro però vabbè chi se ne frega quindi poi parli con altri tipo ho parlato con mia madre quando gli ho detto dell'opinione a parte che l'era convinta di averlo visto poi mi ha detto che non l'ha visto quindi insomma vabbè questi sono altri problemi di mi madre però a prescindere fa no ma è un film bellissimo è poeticissimo va visto va visto cosa cioè secondo me ci sono altri film per diremo quel periodo che ho visto questo film e ho visto anche the walk secondo me quello è un film da vedere quello è un film della storia di felipeti della camminata di zemeckis ma è stato valutato quello è parecchio quello è un film che ti tiene incollato allo schermo che ti fa battere il cuore che ti fa mancare il fiato ogni momento film diversi raccontando film completamente diversi quello senza dubbio però per dire questo è soltanto che spesso vengono sannati dei film che dicono sono bellissimi dei capolavori senza manco ditte perché poi si crea questo ha vinto l'oscar che dici ok va bene però poi lo vedi e ti rendi conto che forse non è proprio un cavolavoro è un bel film è carino è godibile secondo me ne c'è proprio non mi piace proprio quindi non dice oggettivamente è carino perché sono tante immagini poetiche quando piove dentro casa è meravigliosa quella scena lì anche l'idea che lui la deve nascondere a tutti i costi però anche quando fanno queste cose che succedere finiscono sempre a discutere sempre lui che deve nascondere lei perché lei e corre dietro fondamentalmente questo ok allora mi dispiace perché alice ha messo insieme una serie di come si dice nei killing spree nei videogiochi quando metti insieme una cifra delle ammazzine di fra e gente io prima di dare la parola all'accusa marco cioni ti voglio dire che cogliendo il consiglio di 999 galaxy che da questa sera scrive che attenzione perché in difesa sono a ringhe ma l'accusa fa le requisitorie quindi la parola all'accusa per la sua requisitoria che ha regalato degli abbonamenti che ha regalato 5 abbonamenti o ringraziare jerry che si è risubbato per il nono mese davide trotta e dato che si sono risubbati e anche stevas 94 che ha regalato altri cinque abbonamenti grazie mille stevas e poi basta alice alice quell'altro lì alice ricrollata quell'altro lì io adesso avrei preferito vedere alla difesa l'opinione la coppia alice gerry scotti pari o pari altro li ha donato un euro grazie mille aspetta melice torna gianni iniziali gianni poteva dire che se lato mike droga la seconda volta che sloggia quando parlare ecco la regalata mai parti piano e casino preoccupare occupare alice il tuo computer che una certa non regge più quello che diano proprio la cam la gamma con la usb posso rispondere solo al volissimo un commento che ho letto io non ho paragonato the walk a questa bube viene il nome del film anche il titolo capito però io non li ho paragonati era soltanto per dire che spesso vengono portati così tantissimi film e ce ne ti dimentica di altri che sono ma su questo volevo è vero che spesso si crea dietro a un film si crea tutto un movimento magari a volte non ho piccato come ad esempio è successo per the big bang theory ma andiamo avanti gianni prego ma adriano se non piace a te non vuol dire che non funziona ma ragazzi è un'opinione alla volta per favore vai gianni giovanni tu è basi la tua vita su questo concetto adesso ma si è una cosa non piace per adesso così se piace a te è bellissimo fai mai della recusazio la recusazio come direbbe ci puoi farlo la recusazio ma come farlo si va bene allora io voglio subito parlare di una cosa con alice iniziamo con le cassette alice quando è che loro registrano le cassette nel momento di negazione cioè nel momento in cui loro sono incazzati perché si sono lasciati con il proprio compagno e quindi adesso sono infuriati è quell'esatto momento della relazione di quando ognuno di noi si ricorda solo le cose brutte e quindi critica l'altro un modo indiretto psico psicologicamente parlando di scusarsi per il perché si è lasciata quella persona e quindi quello è noiosa no quella non è acculturata e così via quindi il motivo per cui loro fanno commenti negativi sugli altri è perché loro lo stanno facendo in un momento in cui effettivamente è l'unica cosa che possono fare ok cioè perché altrimenti non potrebbero vivere serenamente quindi allora io mi incazzo con lui per non incazzarmi con me stesso ok poi per quanto riguarda le cose positive è vero il film ci mostra molti aspetti negativi ma in realtà e questo ritorniamo alla bellezza e alla grandezza della scendiatura di kaufman le cose positive ci sono e sono tantissime sono tutti quegli oggetti che sono impressi del loro amore e quindi noi vediamo la patata vediamo la tazza occhio vediamo cianni non ti fare interrompe a marco cianni e ti capisco io andiamo avanti vediamo che poi lei a un certo punto del film che mostra la patata veramente è già quindi ok quindi gli fa vedere questi queste patate a forma di vabbè non riesco a dire in maniera credibile va bene ok oltre a questi disegni gli oggetti quindi la collana i vari dipinti che avevano fatto insieme le fotografie che vengono mostrati per mappare il cervello sono tutti degli stimoli positivi adesso perché noi vediamo solamente momenti negativi in quel momento perché sono quei momenti più traumatici noi non ti dimenticare questa cosa siamo nella mente di joel e siamo nel modo in cui joel ha vissuto quel tipo di trauma ok quindi non è una relazione oggettivamente parlando non stiamo come posso dirti non c'è il regista che la che con la sua macchina da presa guarda in maniera oggettiva qualcosa ma è il pensiero di un personaggio che si riflette su quei ricordi ok quindi paradossalmente tutto scusato quindi io per voglio chiudere dicendo questa cosa ragazzi questo film è un capolavoro e ti do le varie motivazioni non solamente perché la sceneggiatura è qualche cosa di inarrivabile perché i dialoghi sono spettacolari l'interazione con i vari personaggi anche secondari è estremamente funzionale perché come ho già spiegato prima sono tutti prototipi di varie relazioni amorose quella dalla semplice free and zone al marito che tradisce la moglie con la ragazza di turno a la coppia che sta sempre in litigio ma che alla fine si vuole bene alla coppia dannata che sono joel e clementine sono tutte declinazioni di dell'amore metafore dell'amore michelle gondrini mette in atto questa cosa in una maniera ragazzi straordinaria e completamente anticonvenzionale rispetto al modo naturale in cui le storie d'amore venivano raccontate questo film è un capolavoro per chi ha segnato un punto di svolta nella cinematografia della del vero e proprio delle love story no dei love drama perché effettivamente si è capito che si può narrare di un tipo di amore in maniera completamente differente avendo però sempre come punto di riferimento un'unica cosa il percorso emotivo dei personaggi perché è quello che non manca mai il percorso emotivo quella quella cosa di voler prima o poi farti non fare l'amore ed è questo l'insegnamento più grande che dai di eternal sunshine of the spotless mind ragazzi è una messa in scena della madonna cioè ci sono effetti speciali allucinanti tipo quando lui è stato cancellato in parte la memoria e c'è vada vada dottore c'è cosa niente vada al dottore che c'è la faccia completamente cancellata ragazzi è qualcosa che ho capito niente due gianni vai avanti lascia stare sti due il giudice non me l'aspettavo da lei da marco cioni si ma si da lei no vero dai gianni concludi ho capito marco per la voglio fare la ring devo ricorrere a ogni mezzo devo ricorrere ogni mezzo aspettate arriva arriva un attimo dove vai tocca a lui e la sera è una serata dove in un modo o un'altra scusate lo butto ad anche sara insieme di aspettano no 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 adesso dice perché ancora si molla un cazzo alla riforma ogni mezzo mattia ha fatto una nonna blympia ben precisa dov'è che secondo me questo film è sopravvalutato e io adesso lo dirò a mio rischio e pericolo secondo me la parte di questo film che lascia fortemente a desiderare è la messa in scena dio santo che cazzo attacca a montare il nego che c'è la dire fammi parlare ha detto il punto è questo c'è una scena in questo film che è l'unica veramente complessa a livello di ripresa e che ci vuole un minimo di approccio registico tecnico per farla che è quella di jim carrey sotto al tavolo quando diventa bambino che lavora di prospettiva forzata ragazzi quella scena è di un imbarazzante per quanto è fatta male se c'è i signori i cinesi e gli asiatici che si fanno le foto davanti alla torre di pisa riescono a sfruttare meglio la prospettiva forzata di michelle gondry in quella scena è sintomo a di una incuria nella messa in scena nella volontà tirare fuori una roba che sia che ragazzi c'è mattia tuta ricordi qua scena ci sono i momenti in cui jim carrey sotto al tavolo che è imbarazzante c'è veramente ridicolo e si vede lontano un miglio che sta 500 metri indietro rispetto alla triche twins let che sta invece davanti a davanti a noi è ridi no ragazzi ora questa cosa sono veramente d'accordo con sto dicendo perché tu vedi il signore gli anelli vedi chi ha sfruttato veramente bene la prospettiva forzata vedi quella scena mi fa vomitare è innegabile quella scena sia chiaramente sono due film con lo stesso budget hai ragione ma che cazzo c'entra la prospettiva forzata e ripeto zio te metti così e la pagata torre di pisa non ho chiesto di muovere la telecamera come fanno il signore gli anelli la telecamera infatti è sempre ferma e fa comunque cacare quella scena ed è sintomo secondo me questo tipo di roba nel fatto che la messa in scena non è quella di un film da 10 non è quello di un film da 9 e mezzo è quella di un film che fa quello che può e in certi casi lo fa anche male perché la cosa che voi avete detto ma quella apparecchiatura per leggere la memoria il cervello fu estiste ma sti cazzi che esiste se a livello scenografico fa cacare non la usi capito come funziona c'è esistono tante cose nel mondo ma se fanno schifo non le usi non è che siccome esiste la panda allora ha vinti segnata la banda in fast and furious da una macchina che sia credibile a livello visibile la stessa cosa giocer di leto capito quella stessa cosa non puoi farlo un macchinario il macchinario deve essere credibile quella roba li non è credibile a livello di messa in scena secondo me questo film fa molto meno di tanti altri film e gestisce male tutta una serie di robe che potrà essere gestita molto meglio anche gli effetti speciali perché ci sono i momenti in cui c'è si vedono tutti quanti che sono tutta nuca o tutta faccia che pare l'uomo senza volto dei freaks o faceva meglio giovanni se gli è davi after ex a gianni tanto te non ne capisci un cazzo gli effetti speciali mauro di come cazzo hanno fatto qualcosa avrò imparato e rega quelle scene della degli uomini senza volto sono ridico le so fatte allora marco quindi concludo dicendo che secondo me lunghi no no ti chiudo qui concludo dicendo mattia che secondo me il punto in cui il film pecca è la messa in scena di tutte quelle robe che non sono un campo il controcampo e delle cose più facile a gestire giovanni breve non risponderò a marco perché questa sequela di cazzate che ha tirato fuori una dopo l'altra non è ben fatta parliamo semplicemente parliamo semplicemente di michelle perché è una merda michelle gondry il regista di questo film michelle gondry è un video un videoclip paro è un videoclip paro che semplicemente si contende il mondo per fare per fare per avere un videoclip girato a lui è un videoclip paro che faceva si contendeva si contendeva all'epoca del film the eternal sunshine of the spotline spine è un tipo che si faceva a tutti quanti videoclip di bjork ha fatto videoclip della madonna eccetera eccetera e lo stile di madonna o della madonna di madonna e della madonna e lo stile di michelle gondry è assolutamente tremendamente riconoscibile all'interno del film il non voler come abbiamo detto prima utilizzare una tecnologia pazzesca a parte per questioni di budget questo film non c'aveva il budget che potrebbe avere manco un quarto di qualsiasi film della marvel ma c'è un budget molto basso e nonostante questo è riuscito a creare un mondo onirico perché quello che noi vediamo per tutto il tempo come ha detto gianni prima non è nient'altro quello che succede nella mente di joel è un mondo onirico è un mondo dove niente è reale dove tutto è come più o meno te lo ricordi e ricordiamo che in questo film si racconta una storia dove la tua mente è sotto attacco e sotto attacco da questa macchina che sta cercando di cancellarti i ricordi è una cosa un gesto d'amore bellissimo che fa joel durante quasi tutto il film e cerca di difendere la presenza di mandarina nella sua vita per questo è lui che la prende via che se la tira via perché è braccato da questa macchina da questa tecnologia da questa cosa che deve cancellare mandarina dalla sua vita e lui non vuole perché perché la ama perché la ama perché c'ha dei difetti la ama anche perché lei si colore i capelli che nel film il fatto che lei si colore i capelli serve solo a farci capire vagamente dove cazzo siamo nella storia che la ama perché lei è scontrosa perché lei è quello che non è lui perché molte la mia ragazza è impedita non si sa muovere se deve scendere da quel divano in ciampe si fa male e quando succede io rido mi diverto la amo anche per questo non non è non si devono amare per forza le persone perfette nessuno è perfetto grazie a dio e si possono amare anche i difetti delle persone se una persona la ami e l'ami veramente l'ami sia per i suoi pregi sia per i suoi difetti moltissimo anche per i suoi difetti e loro non sono perfetti ma sti cazzi si amano perché non devono andare insieme il film non è sopravvalutato e chiude adriano santucci tu sempre con me ti fa venire fretta il film non è sopravvalutato il film non è assolutamente sopravvalutato perché racconta quello che deve raccontare in una maniera incredibile non si limita a raccontarti una storia che fa a b fa a c f poi torna indietro e poi va avanti e nonostante tutto questo casino riusciamo perfettamente a muoverci all'interno della storia e il delirio a livello narrativo serve anche a farti entrare ancora di più all'interno della storia perché una storia d'amore non è mai perfetta se una storia d'amore è perfetta non funziona niente perfetto e la storia non è perfetta va bene e forse è proprio per questo 10 volte perfetto adesso intervengo prego adriano santucci grazie dislessica dice fra l'altro c'è un sacco di gente che mi sta facendo che vada a z c'è anche un sto piangendo mi stai commuovento amore gioccarciano santucci hai distrutto dovremento poetico dovresti ridere allora giovanni perché quando qualcuno cade si fa male piange tu ridi no qui io non vedo quello sei tu che ridi in queste cose non io l'hai detto te l'hai detto te comunque ragazzi è il momento è il momento di lanciare il sondaggio quindi non sei credibile vai avanti imbarazzante è il momento di lanciare il sondaggio quindi basta zitti è mattia adesso quello succede è che viene lanciato il sondaggio in chat durerà più o meno 4 5 minuti durante questo tempo del sondaggio ascolteremo le arringhe finali una da una parte e una dall'altra dopodiché passeremo a dire ci esprimeremo quindi la parola da lì dice allora sarà molto breve intanto voglio ringraziare marco perché vedo lo sforzo e quanto sei impegnato a cercare di difendere questo video insieme a me e quindi questo è già tantissimo e poi vorrei dire a giovanni che forse si è scavato un po la fossa da solo perché allora intanto sì cioè nel senso il fatto che vada da c z f poi ritorni da capo senza dubbio infatti non ho detto che il film è brutto realizzato male assolutamente quindi questo può essere un clauso può essere una bella cosa è tutto ma è tutto lì la bellezza e comunque non ti non ti fa entrare nel film perché questa continua andare avanti indietro fuori dentro e poi personaggi altri personaggi non ti fa completamente rimanere fuori non sono all'interno del film e poi tu dici tu ami una persona con pregi e difetti è vero ma dove sono per joel se siamo nella sua mente i pregi di clementine non ne ha a mezzo non ne ha a mezzo perché tutto quello che può essere che caratterizza quel personaggio lui lo distrugge lui non lo apprezza lui dice che non è pronta per essere una madre che anche come ti dicevo prima questa cosa del suo essere così estroversa così fuori dagli schemi in realtà non porta a nulla quindi tu ami una persona per pregi e difetti ma i pregi di questa donna lui non li vede e probabilmente non li vede se per il semplice fatto che non è la donna adatta a lui che non è la donna con cui è destinata a stare perché insieme sono distruttivi e dannosi l'uno per l'altro e lei stessa glielo dice e lui gli dice io pensavo tu potessi salvarmi e lei due secondi prima gli ha detto io non sono quel tipo di donna io non salvo gli uomini comunque ribadisco è un film carino e godibile ma non può essere considerato un capolavoro solo perché fa dei grandissimi sbalzi temporali perché anche leone li faceva gli sbalzi temporali c'era una volta in america anche lì c'erano fortissimi sbalzi temporali però non è solo per quello che i film diventano capolavori solo per come fa assolutamente infatti me già ne è una cagata chi la fa chi la fa la gianni allora tutti quanti in chat prima dicevano ai filo che è stato villaggio villaggio turistico c'è anche una scommessa monetaria fra fratelli ci dà ne un paio se no c'è una che perde dei soldi assolutamente eccoli qua allora incominciamo da un poeta alexander pop è felice il destino dell'inconsapevole vestale dimenticata dal mondo dal mondo dimenticata infinita letizia della mendeca della mente candida accettata ogni preghiera e rinunciata ogni desiderio è questa la poesia che dà il titolo al film che cosa significa questa poesia la vestale che era una sacerdotessa della dea vesta e dal punto di vista di dare dei romani se non sbaglio che ha rinunciato praticamente a una vita normale si è rinchiusa in un tipo di relazione senza senza sbocchi con altre persone perché crede che in questa maniera sia l'unico modo felice di poter vivere però adesso ti metto in evidenza anche un'altra cosa che cos'è effettivamente il motore della della nostra vita che va oltre la ragione oltre qualsiasi tipo di scopo in questo purtroppo ci vedo fermamente sono figlio di romantici è l'amore e infatti come diceva nice tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male ragazzi non c'è in questo film tutto è una vera e propria metafora di quello che vuole essere e vuole significare l'amore è tutto un vero e proprio discorso sul contrasto perché non esiste l'amore perfetto non esiste l'amore dei film della disney esiste un amore pieno di contrasti questi contrasti sono quello che danno il via il motore dell'azione come posso dirti è anche la capacità di avvertire il simile nel dissimile dove per simile si intende il sentimento la relazione non atteggiamenti simili il fatto che una persona sia ribelle poi concludi gianni e l'altro sia una persona invece molto più riservata molto più taciturna è la perfetta unione androgina come avrebbe detto un mito di un altro mito di platone il mito dell'androgeno ovvero la perfetta metà della mela sono questo joel e clementine sono qui ed è questo che vuole significare tutta questa grandissima pellicola già anni mani c'è scritto in cesi legge nice poi in inglese ovviamente ok vabbè allora che si è concluso il sondaggio finito sì il sondaggio già giovanni legge intanto ringrazio ci si aspettava come non è come ci si aspettava intanto ringrazio è riuscito certo non è ringrazio gioco per averlo scritto col suo titolo quindi eternal sunshine of the spot race mind è sopravvalutato siamo 62 38 per cento io prima o mi spiegherete che vuol dire pelbiscito qua dentro quando è una roba a furor di popolo quando è al 95 9 70 70 anche ampiamente riconosciuto per noi è ampiamente a 70 vabbè e il 62 per cento il 62 per cento sono in 307 e il 38 per cento sono in cento in 192 comunque vince il no non è estremamente sopravvalutato secondo la chat mattia vai tu è capito come è finita dai è molto difficile giudicare un po perché io un'opinione pregressa sul film quindi anche di ferro e sta lì dalla propria opinione e poi secondo me a tratti si è mancato davvero il punto a volte mi sembra che si sia parlato più di gusti personali che di sopravvalutazione dall'esterno della propria ottica cioè io non ho capito bene perché sia sopravvalutato io l'ho detto rispettiva forza di merda però secondo me sono stati tirati in ballo dei fattori tecnici su cui non sono proprio d'accordo sia per quanto riguarda il mezzo fantascientifico un po' antiquato sia per quanto riguarda la famosa scena della prospettiva perché un film onirico a volte volutamente stragnante e che non alcuna pretesa di verosimiglianza mi ricordo un po' quando io mi scontrai in università feci una una sorta di piccola tesina su The Truman Show e trovai delle recensioni dell'epoca che dicevano quello che succede implausibile ma non è importante quello c'è importante il messaggio cioè l'impianto fantascientifico qui è una scusa l'attacco non è che mi abbia convinto sempre a livello di argomentazioni però nel complesso secondo me questa questa frase del fatto che sia sopravvalutato stasera non convince troppo 2 a 0 per non è sopravvalutato ragazzi quindi quello che io penso io voglio sapere no beh ma a questo punto e non sarei credito adesso tu potresti iscrivere anche tu la tua recensione che poi sarà non le uniche la unica insieme a pari no beh ragazzi sopravvalutato sinceramente no non me la sento non me la sarei sentita neanche io di dire sì ci avete provato però no cioè si merita tutto quello che che ha avuto il successo che ha avuto è un bel film è un bel film e come dice mattia e se è credibile l'impianto c'è la tutto il contesto che ti raccontano è credibile la cosa quello che diventa importante poi è quello che c'è dentro al contenuto al contenitore e per me il contenitore sta in piedi pure per quelle cose che diceva marco quindi per me pure non è sopravvalutato mi dispiace c'è sapevo che sarei venuta qui però 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 è stata è stato interessante assolutamente mi raccomando non guardate la live in diretta perché c'è un piccolo cambio di titolo perfetto adesso siamo coperti da un eterno al sunshine of the spot rice mind è un capolavoro andiamo avanti mattia tu hai tentennato qualche volta c'è ai vacillato a un certo punto sei sempre stato sono sempre stato abbastanza schierato io forse per accusare avrei utilizzato altri elementi però secondo me molto spesso posso dire si è mancato il punto ma io mi permetto un attimo di dire una cosa ringrazio alice perché veramente forse una delle opinioni pericolose più difficili che sono mai state fatte solo cecilia col jogger fra te esatto fra te cecilia col jogger ve la siete giocata parecchio non pensavo mai che qualcuno veramente c'è chi chi ha il coraggio di portare fuori una cosa del genere e l'hai argomentata benissimo ma veramente bene brava davvero 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 e guardate qualcos'altro giovancio e guardo tante grazie e continua se ti va a seguirci perché a questo punto direi che è il momento giovanni non so se già pronto no aspettiamo di capo orlento aspettiamo victor io nel frattempo delle cose da dire io vado a prendermi una red bull perché ho bisogno di ricaricarmi allora intanto anch'io per una pausettina tattica perché dopo c'è da guardare ai ragazzi mi hanno mandato questo e vedi vedi non serve arrivare a farlo lì questo 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 è quello che vi aspetta se anzi è quello che ci aspetta se raggiungiamo le donne 4500 subs che vedete a schermo perché noi faremo domenica 25 aprile una live pre oscar in cui di ora in ora affronteremo tutto il carico arrivo vai in cui di ora in ora affronteremo tutte le categorie quasi tutte le categorie degli oscar quindi parleremo sempre di miglior film d'animazione miglior sceneggiatura originale miglior attrice protagonista e non protagonista ma lo possiamo dire un ospite no ancora è presto posso dire un ospite allora ragazzi noi ci stiamo muovendo per per avere dei grandi professionisti che sono riconosciuti alla internazionale per poter non matto bruno no matto bruno è un poveraccio a confronto avere persone che veramente hanno concluso qualcosa nella vita non come matto bruno e per diciamo dare alla discussione un tono molto più professionale e che quindi quasi trasformi la discussione sui candidati agli oscar come un gancio per poter poi parlare in generale di quella categoria di film e di come vanno valutati e di cosa rende quel film di quella categoria spettacolare adriano qual è il nome tu volevi dire allora non voglio credo l'unico che mi sento perché sono sicuro che era sicuro che l'ho visto nel file prima è vivi lo dico no 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 non dirlo quello allora allora alla categoria miglior film d'animazione avremo una persona una donna che ha contribuito a rivoluzionare uno dei personaggi più iconici della storia e l'intrattenimento credo che spider-man e questa donna è sarah pichelli che ha disegnato miles morales cioè il personaggio che è il nuovo spider-man diciamo lo spider-man di un altro universo che poi si è unito a quello dello spider-man che tutti conosciamo e che anche il protagonista di spider-man into the spider-verse film che ha vinto l'oscar nel 2019 se non erro e a cui lei ovviamente ha partecipato ovviamente non è un'animatrice ma ha partecipato perché sostanzialmente il character design del personaggio è suo e quindi gran parte del merito di quel personaggio che poi per esempio una domanda che io vorrò fare a lei è quanto la scrittura di un personaggio ti influenza il design di un personaggio ci sono risultati domande fichissime che io vorrò fare a sala e ci saremo per esempio su un miglior film d'animazione oltre a lei avremo anche stefano caselli disegnatore marvel pazzesco di cui io ho diversi sketch e che è anche diciamo che lavora anche per i marvel studios perché fa tutti i design dei personaggi prima che vadano in scena quindi disegna diciamo da una caratterizzazione personaggi in modo che poi costume designer possano poi metterli veramente veramente lì capito veramente in scena dagli corpo marco intanto è arrivato victor se dispiace entrare eccolo qua buonasera ciao siete già finiti uno da una parte uno dall'altra chissà come la rissa e qui la rissa e qui la rissa era il twitch ma se non ricordo male sì questa potrebbe essere anche una rivincita è vero victor e matioschi si sono già scontrati al quasi quiz non mi ricordo mi pare che matioschi ha vinto ma non mi ha aspaltato victor sì sì non esageriamo attenzione vincendo parole forti allora ragazzi io lascerei la parola e direttamente adriano fai tu cioè andiamo nel vivo dell'opinione il momento che tutti aspettavamo dall'inizio di questa serata e quindi io direi a questo punto di far raccontare a matioschi che è lui che porta la sua opinione questa sera di dirci appunto qual è la sua opinione questa sera l'opinione di stasera che la we don't cut quindi la versione cinematografica di justice league sia superiore e migliore della snyder cut la versione da quattro ore arrivata recentemente sulle piattaforme digitali madonna allora in questo caso ragazzi in questo caso vi dico che io non ho visto nessuna delle due versioni ma mi volevo vedere la quella di snyder poi mi hanno detto gianni mi ha detto non ne vale la pena io non l'ho vista come così io l'ho visto entrato e sono sono neutro sono neutro quindi capito proprio a fagioro e proprio perché gianni mi ha detto in questo modo io lo voglio mettere in difesa insieme a matioschi ok voglio perché magari può apportare l'ora è un'ora e quindi da qualche parla filosofica un po di e quindi dall'altra parte abbiamo che adesso c'è un problema c'è qualcuno dei due ma a marco e giudice con te io devo difenderla con victor che si è certo sì sì marco invece resta giudice con me ok quindi come al solito ovviamente così via nel neutro e invece io no grazie carca danno perfettamente bilancio carca dann che ha appena regalato 5 abbonamenti grazie mille la citazione ad avengers comunque te lo voglio dire adriano è cioè perché pugnale mente bilanciato come tutto dovrebbe essere come guido che come si vede come snyder non è gianni gianni almo a questo punto diamo la parola subito a mattia matioschi e quindi vai prego esponi la tua opinione pericolosa il presupposto da qui nasce l'opinione rispondo subito un commento che ho letto e che la snyder cat è stata accolta da grandi applausi dicendo questo è il film che meritavamo altro che la ciofeca di widon è un confronto però quello proposto da molti sostenitori della snyder cat che già in partenza è fallato in quanto stiamo proponendo un confronto tra un film di due ore che ha avuto distribuzione cinematografica e una cat da quattro ore che al cinema così com'è non sarebbe mai arrivata quindi il signor snyder avrebbe comunque dovuto applicare dei tagli alla sua visione tagli che oltretutto ha dovuto applicare anche widon perché forse non tutti lo sanno ma il montaggio originale di widon era di due ore e 50 quindi 50 minuti della sua versione sono stati tagliati e cassati oltretutto widon è stato messo sul set in corsa con la precisa indicazione di stravolgere la visione di snyder che alla warner non piaceva più ha dovuto lavorare in fretta e furia e dinanzi alla richiesta vorrei più tempo per lavorare a questo progetto e allora dirigenti della warner gli hanno detto no 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 perché se non rispettiamo la data di uscita consolidata non ci prendiamo i bonus quindi questo già per inquadrare le due operazioni ora perché la widon cat è superiore facciamo questo gioco vi fanno vedere un film di due ore poi vi dicono di queste due ore terremo 40 minuti e poi attaccheremo tre ore 20 inedite voi vi aspettate di vedere un film con la stessa trama identica oppure vi aspettate di vedere qualcosa di un po diverso ma diverso in maniera profonda perché le aggiunte della snyder cat sono in prevalenza riferimenti a film che in futuro forse non vedremo mai fanservice gratuito neanche per i fan di personaggi ma per quelli specifici di snyder che sono attaccati una determinata visione di quei personaggi e oltretutto si parla tanto delle cose che questa versione di snyder ha aggiunto ma non si parla mai di quelle che ha tolto perché rispetto alla versione di widon che dura due ore in meno mancano delle sottotrame della caratterizzazione dei personaggi e oltretutto questo allungamento di quattro ore ha danneggiato la narrazione perché la versione che ha presentato snyder al pubblico è quella che di solito si presenta ai produttori per capire se il lavoro sta andando bene o no è un premontato snyder cui ha infilato tutto tutto e il risultato è che il montaggio è a tratti criminoso e la fiera dell'anti climax un susseguirsi di scene che costruiscono situazioni che vengono tagliate per passare ad altro è difficile seguire le sottotrame perché si fanno riferimenti a volte a degli elementi che visto che dura quattro ore sono stati presentati 50 minuti prima quindi a volte i personaggi parlano di cose che tu nel frattempo ti sei dimenticato la minaccia del cattivo non si sente anche qui dura quattro ore quindi è dilazionata quindi è dilatata questo cattivo si vede ogni 50 minuti il resto del tempo boh ci sono questi personaggi che si avvicendano un po poi adesso qua mi mantengo su sul vago se volete entriamo io faccio un altro giro è voglio fare voglio fare una precisazione ma questa roba in questo minutaggio in più era già stato tutto girato prima essi da chi da prima da snider allora buona parte era già stato tutto girato praticamente snider ha perso il progetto per motivi familiari anche perché c'erano dei produttori a cui non stava particolarmente alla fine quindi quasi tutto verso alla fine era già stato girato ci sono però c'è in particolare una sequenza abbastanza lunga saranno cinque minuti girata in post produzione che secondo me rientra tra i difetti peraltro è la sequenza finale se non ricordo che la sequenza dell'incubo la cosiddetta sequenza nightmare che si vede palesemente che è stata pensata in post produzione perché non ha niente a che vedere con il resto del film è un'apertura con le gambe divaricate da porno star verso un futuro che forse non vedremo mai è una scena che contraddice le caratterizzazioni presenti all'interno del film fate conto giusto per un esempio perché magari qualcuno non l'ha vista verso il finale del film viene introdotto per la prima volta il personaggio di deathstroke che viene presentato al pubblico come alleato di lex luthor e rivale di batman la scena successiva è quella nightmare che una visione di batman all'interno di questa sequenza il deathstroke appena presentato come cattivo di batman e alleato di luthor e alleato di batman non mi sembra una presentazione efficace di un personaggio tu proponi una loro tiff uno scenario ipotetico quando lo status quo non è ancora stabilito ok è chiaro è strano sì allora diamo la parola alla carriano percepisci dell'isola in questo momento no 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 ho capito capire non farei direttamente victor perché il loro scontro personale noi siamo di contorno vittor posso dire che ti è piaciuta ma non è lui l'accuso ho chiesto la difesa no tu sei l'accuso allora mattioschi ha portato l'opinione quindi a giustamente sì al contrario perdonami sì 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 tu devi accusare allora inizio dicendo che allora siccome tu hai usato come difesa la tattica del se mio nonno avesse avuto tre palle sarebbe stato un flipper io rimango un attimo più concreto perché il fatto che la versione di snyder a quattro ore mentre quella di we don a due ore si può avere paragonate quindi non c'era neanche bisogno di paragonarle a questo punto non si può rispondere vero no segna di le cose per dopo il punto è questo dobbiamo vedere quello che è stato fatto a snyder hanno concesso quattro ore peraltro è stato rivelato se non erro che in realtà il girato era molto di più di quattro ore quindi non è neanche la versione che si mostra ai produttori per cui non è vero neanche quello però il punto è questo io avevo apprezzato a livello di intrattenimento anche il cadde we don ammettendo che fosse una merda cioè non è un bel film è un brutto film è un film disastroso però a me aveva divertito questo film mi ha fatto capire il perché mi avesse divertito perché a me piace così tanto la justice league che vedere un film della justice league per quanto sconclusionato mi aveva comunque fatto piacere ecco questo film ha corretto secondo me ciò che aveva proposto we don perché qui non mi sono solo divertito ma se non mi sono anche emozionato moltissimo nel vedere tutti i personaggi insieme e finalmente sono anche equilibrati perché vorrei ricordare che nel card di we don superman arrivava e risolveva la situazione da solo qua invece superman da solo non basta sconfiggono il nemico i nemici tutti insieme quindi sicuramente non è un film perfetto io su questo sono assolutamente d'accordo ma mi è piaciuto veramente tanto mi è piaciuto tanto anche perché ad esempio tu hai citato il nightmare finale già solo quello per me vale la visione del film perché l'unica cosa che mi è piaciuto di batman di superman era l'idea del nightmare per quanto da 80 anni di fumetti di batman avrebbero potuto tranquillamente scegliere altri cicli hanno scelto il ciclo di injustice che è un videogioco ci sono anche i fumetti quindi magari hanno scelto qualcosa di forse un po troppo recente ma non è un male quindi l'idea di mettere in scena una cosa di quel tipo perché l'ispirazione chiaramente quella me sollucrava la questione deathstroke deathstroke è vero viene presentato alla fine in maniera diversa rispetto a card di we don perché a questa come posso dire a qui il suo obiettivo uccide bruce wayne perché ci fanno capire che gli ha portato via l'occhio la benda sull'occhio ce l'ha per coprire bruce wayne letteralmente la scena dopo noi vediamo deathstroke alleato di batman ecco tu dici che è inefficace con me ad esempio è stato efficacissimo perché io subito ovul avevo la scimmia per capire cosa ci fosse nel mezzo cioè tra la scena di lui che vuole uccidere batman e la scena di due alleati di batman cosa c'è c'è questo film fa una cosa interessantissima molto più di quello di weddon e di qualunque altro film del dc extra negli universi in questo momento getta le basi per qualcosa di concreto tutto quello che si può trarre da questo film è praticamente infinito puoi fare un film su captain atom ci sono i seguiti puoi fare tranquillamente un film su cyborg che qua è secondo me un po il vero protagonista se nel cad we don cyborg non aveva una reale rilevanza qua invece è molto più caratterizzato poi posso dare ragione sul fatto che la caratterizzazione wonder woman e quella di batman si sono perse per strada come ho detto non è un film perfetto ma ti fa venire voglia di saperne di più finito il film di we don mi ero divertito ma non mi aveva fatto voglia di saperne di più non mi aveva fatto voglia di vedere un seguito qua invece getta le basi per qualcosa di più grande ed è per questo che alcuni fan molti in realtà circa un paio di milioni di fan da quello che abbiamo potuto vedere vorrebbero vedere lo snyder verse perché questo è un universo è come se fosse un sotto universo in casa di sì per quanto il film tu hai detto giustamente perché rispetto a tua opinione ovviamente tu hai detto che fondamentalmente il film non aggiunge niente rispetto a quello di we don allora secondo me non è del tutto così io non mi aspettava un film completamente diverso e quello che avuto è un film che ha di base la stessa trama ma che è profondamente diverso nello svolgimento nel come certe cose accadono la battaglia finale è completamente diversa e decisamente più sensata steppenwolf non è che sia particolarmente caratterizzato ma gli hanno dato quelle due motivazioni in più che secondo me lo hanno reso un cattivo molto interessante quello che mancava nel film di we don era un villain degno di trenome steppenwolf era un tizio che dovevano combattere perché sì o invece lo dovevano combattere perché sappiamo che ha un debito di darse non spiegano qual è il debito ma a me non frega un cazzo di quale sia il debito a me interessa sapere che lui ha un debito e che fa tutto questo per poi non è detto che non l'avrebbero spiegato nei film successivi visto che è il primo capitolo della trilogia ea delle cose che erano due cosa quattro ore pazienza non c'è la motivazione quattro ore di film no no ma no c'era la motivazione attenzione non hanno spiegato bene qual è il debito che tu appena detto ma chi se ne frega no 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 ho detto che non me ne frega di sapere qual è il debito in questo film appunto non mi interessa non è importante sapere qual è il debito non è una cosa rilevante finita non me ne frega niente nel momento in cui tu sai che questo ha un debito possono anche non spiegartelo è la sua motivazione non c'era bisogno di dirti di farti alcuna storia a posto che probabilmente l'avrebbero spiegato più avanti l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto vedere più è Darkseid perché Darkseid è introdotto in una maniera secondo me interessante quindi il film nasce come primo capitolo di una trilogia è normale che certe cose non te le spieghino subito perché la dichiarata intenzione era che fosse una trilogia quindi se non ci sono delle cose spiegate come il nightmare alla fine è perché volevano portartela avanti ho ascolto mi ascolto il tempo sì 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 no è sì andiamo così tanto io potrei anche già rispondere a tutto mannaggia vado io a tutti e maria devi aspettare il bello di questo format è questo che stai lì a croggio l'area si vanno intervento dopo dura 40 minuti ma noi non abbiamo problemi se funzioni lo teniamo il suo intervento facciamo lo facciamo montare allora io voglio partire subito dal cattivo per me steppenwolf di justice league ha la la grandezza di essere semplicemente più violento ok cioè che arriva nella snider cut scusatemi della snyder cut è quelli che va arriva dalle amazone prende un cavallo e lo lancia però mi sembra tanto il cattivo di iron man 2 cioè la motivazione paradossalmente la stessa c'è non mi capisco star che non mi sembra proprio il miglior cattivo dell'emzio ma nel senso che secondo me il problema è che io sinceramente mi aspetti mi aspettavo che il passato di steppenwolf sarebbe stato un po diciamo analizzato più a fondo e alla fine la motivazione che da widon e quello che secondo me ha pensato ha detto vabbè questo ha detto semplicemente che ha un debito il debito non è spiegato non mi danno soldi per girare sto debito famo che vuole distrugge il mondo e la risolviamo così per dark side alla fine la stessa cosa che dice a un certo punto ma io voglio parlare un po degli aspetti tecnici perché so che gli aspetti un po più della trama ne parlerà matios che voglio concentrarmi un po più sugli aspetti tecnici sono molte cose che mi hanno dato fastidio innanzitutto il 10 per cento del film cioè quasi 30 minuti sono rallenti ma non è il problema che sono rallenti perché la poetica di snyder da attuare i rallenti quindi il mio grosso problema noggio il mio grosso problema è che all'interno di questo film che non c'era in tutti gli altri film di snyder c'è un personaggio flash flash l'unico modo per far vedere che utilizza questa sua super velocità e attraverso questo modo dei rallenti adesso spiegatemi come faccio a distinguere la super velocità di flash da tutti i rallenti presenti nel film se non dai dalle saette ragazzi è una cosa no perché sminuisce tantissimo sminuisce tantissimo il potere di flash a una c'è ancora di me che vuoi sono ancora credenti ma non è vero victor rana c'è io questo è questo l'ho notato molto bene ascoltami io ho visto dopo la scena di wonder woman lei in quel momento sembra che ferma il tempo in guidon che cosa fa lui sapientemente utilizza un effetto sonoro oggettivo quella quello scratch diciamo di di piatto di disco perché la scena è molto simile rispetto a quella che si vede in guido solo che guidon sapientemente dice in realtà non è che si ferma il tempo ti vuole far capire il modo in cui riflette wonder woman in snyder sembra che lei effettivamente eviti le pallottole perché è più veloce se vedi è proprio diverso il movimento di wonder woman perché in quella di guidon si vede che la pallottole lei si muovono alla stessa velocità in quella di snyder la pallottola va più veloce e lei cioè scusa leva più veloce della pallottola altra cosa che mi ha dato fastidio ragazzi il quattro terzi adriano tu che non lo sai questo film è in quattro terzi adesso io so tutto quanto 4 ore in quattro terzi allora a me questa cosa mi ha dato fastidio lo sapete perché 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 io posso capire che lui ha voluto fare lo sborone perché voleva fare il coso in imax il problema è che è uscito su hb o max quindi quindi non al cinema non lo puoi vedere sarà meno di lettieri non l'ha fatto non l'ha fatto per quello a me ma perché è in quattro terzi ma ha detto che era un senso di verticalità secondo lui sono più superi verticali che orizzontali però mi ha detto il fatto è comunque l'imax è principale funzione in quattro terzi e che poi il rettangolo riadattano per il cinema non c'erano voglia di riadattarlo fermi fermi quello che poi diceva è che il quattro terzi per snydera sia pensato per l'imax sia per quella roba e diceva victor però comunque ragazzi in televisione non funziona diciamolo perché tu a parte che non è detto che te lo vedi su un televisore 50 pollici te lo puoi vedere su un pc su uno smartphone vedi la visuale semplicemente rimpicciolita ma la cosa ancora peggiore ragazzi è che il quattro terzi il film si vede che non era stato pensato per il quattro terzi e si nota tantissimo perché c'è troppa aria sulla testa dei personaggi questa cosa si vede tantissimo ma se nozio sono difetti sono difetti io voglio chiudere dicendo solo invece mente quest'ultima cosa poi chiudo lascio la parola a giovanni la cosa che però mi ha dato più fastidio di tutti in questo film è la caratterizzazione del mio personaggio preferito della dc batman batman non ha un minimo di caratterizzazione io quasi rimpiango in guidon perché quanto meno lì si vedeva che era un personaggio stanco dava le sue motivazioni per cui doveva semplicemente creare questa squadra qui è un che inizia a reclutare le persone perché sì cioè in cui il film di guidon adriano tu che non l'hai visto si apre con una sequenza in cui batman si trova a gotham e arriva un parademone un mostro alieno ok e quindi batman capisce che arriverà un mostro alieno guido nel film di snyder invece come si apre dopo la morte di superman batman sa sulle montagne va a reclutare acqua me ne dice è dobbiamo fare una squadra perché perché ho finito grazie di napoli provincia io voglio la gianni scatta io voglio la gianni scatta io io temo che il mio intervento sarà di un'ora dopo conteniva bene ma vabbè siamo qua apposta finché ci tieni in hype basta che lo fa in quattro terzi allora io sono d'accordo con gianni per la questione quattro terzi mi sono lamentato pure io però è anche vero che guido che usi che guido che snyder intanto non è vero minimamente che il film non è pensato per un quattro terzi perché snyder che si che regista in questo film l'ha girato lui in quattro terzi perché lo voleva in quattro terzi è l'aria zio prendi matteo bruno che mette un chilometro e mezzo sopra l'aria che voglio mai mai già parlato ho già parlato giovanni ora zittisco te snyder l'ha girato in quel modo sia per quello che ha detto victor c'è una sua intervista che anche per la questione che abbiamo saputo che abbiamo scoperto con mauro perché inizialmente il film era pensato per l'imax l'imax una proiezione diversa e deve essere proprio strutturato in quel modo è anche vero però che quando poi c'è stata la questione guarda che il film esce solo in hb in digitale esce solo in versione per televisori eccetera c'è stato un tentativo da parte di snyder di dire beh forse è meglio che riadattiamo tutto in 16 noni ma la warner che aveva già sborsato qualcosa come 70 milioni per questa snyder cut gli ha detto no zio mo ti attacchi al cazzo e te la tieni così 70 milioni 70 milioni 70 milioni 70 milioni è costato è ma il montatore si è fatto da gambotto montatore no vabbè adriano allora adriano molto velocemente in questi 70 milioni non ci sono soli pezzi che hanno rigirato ma ci sono ovviamente tutta la la posta e la vfx che non era stata ultimata precedentemente quindi c'è tutta quella roba lì cioè lui l'aveva girato non l'avevano montato e quindi conseguenza non state lavorate anche perché adriano banalmente cyborg che nella widon scatta è molto poco presente nella snyder cut è molto presente c'è una cazzo di posta addosso che si porta via se noi da solo c'è calcola che da qui in giù è tutto finto e anche un pezzo della fancia è tutto finto quindi comunque io non non ho letto i fumetti non mi piace batman come supereroe ma non mai letto un fumetto di batman quindi l'unico motivo l'unico modo in cui posso parlare di questa cosa è da spettatore che li ha visti tutte e due e devo dire che la versione di widon era una merda totale cioè mi sono detto madonna poverini come caspita li hanno ridotti questi qua perché batman e wonder woman sembravano la coppiettina che non si capiva quello che volevano fare però volevano riunire questo gruppo di persone per fare cosa perché era arrivato un parademone quindi si dicono oddio adesso arriveranno i mostroni troviamoci il gruppo di amichetti che aiutano a rompere il culo a chi non se ne aveva la più palle idea invece qui quello che a me invece è piaciuto moltissimo a parte il personaggio del cyborg che finalmente ha avuto una storia ha avuto un motivo di esistere cosa che invece nel film di widon sembrava quello scelto solo per non lo so perché c'è doveva stare basta qui invece c'aveva proprio un motivo di esistere io ripeto non conosco i fumetti quindi mi baso solo su quello che vedo il personaggio di batman in questo film è fichissimo per un semplice motivo perché abbiamo per l'ennesima volta un batman totalmente diverso in questo film batman è vecchio non gliela fa più e si vede si capisce quello che nel film di widon non si riusciva a percepire bene del perché batman si comportasse in un determinato modo qui è chiaro per tutto il film è è un batman anziano vecchio non ce la fa più e non ce la fa più a fare le cose da solo e ha bisogno di qualcuno è quasi un comprimario degli altri l'unica cosa che può fare in questo film batman è semplicemente mettere un gruppo di persone insieme e perché ha capito che c'è bisogno del gruppo per sconfiggere questo cattivo che in questo film finalmente è un personaggio invece che semplicemente io sono cattivo ti devo rompere il culo perché sono cattivo dice ma perché perché sono il cattivo qua invece si capisce perché si muove in un certo modo diventa un personaggio vero diventa tridimensionale non solamente una piattina un personaggetto nello schermo c'è il cattivo di turno ed è il motivo per cui queste quattro ore è vero anche vabbè qua ne hai quattro la né ai due qua ti spiegano molto di più però allora si vede che questo tipo di storie se vogliono raccontare questo tipo di storie le vogliono raccontare in questo modo magari non sono ecco e qua la sparo molto grossa ma magari questa non è una visione che può andare al cinema qual è il problema in questo caso sono i budget perché ovviamente quello che si dice sono d'accordo sul fatto che un film di quattro ore non può andare al cinema e va bene siamo d'accordo che non può andare al cinema però sono stati fatti ne hanno fatto uno e l'hanno fatto un altro se noi decidiamo lasciamo stare che quello non è andata al cinema che quello invece c'è andato questo non ci interessa ci abbiamo i due film fatti e finiti l'uno e l'altro qual è il migliore dei due la snyder cut perché approfondisce meglio perché ti emoziona di più perché sviluppa delle cose che dall'altra parte invece è solo botte il cattivo cattivo è buono buono e basta mattia allora io non sono a bisone 23 18 mai il tempo fino a mezzanotte 18 la snyder cut che approfondisce parliamo delle cose che toglie invece ora innanzitutto volevo rispondere perché si fa il confronto e si fa il confronto perché secondo me we don con metà del tempo ha fatto meglio quindi per quello che faccio il confronto di minutaggio non è che me l'invento cioè qui stiamo paragonando due film con una durata diversissima e quello che dura meno secondo me fa di più perché vorrei rivelare questo grande segreto non sempre il prodotto più lungo è più bello tutti i registi quando girano un film hanno otto ore di girato però poi lo montano e lo fanno diventare di due ore quindi non è che se lo sono inventati no il film della giustizia di due ore che onta c'è un preciso motivo ma vediamo le cose che toglie snyder in un film che dura il doppio toglie delle cose toglie una sottotrama un arco narrativo riguardante lois lane che nella versione di we don dopo la morte di superman non riusciva più a lavorare come prima non riusciva più a dedicarsi a quello che le riusciva meglio i pezzi di cronaca e si riduceva a pezzi di costume ora potrebbe sembrare una cosa minore ma in realtà il film si concludeva quello di we don proprio con un articolo di lois che parlava del ritorno della speranza vorrei farvi presento oltretutto che la speranza è un tema che è presente in quest'ideale trilogia fin da man of steel we dono ne parla snyder no parliamo di wonder woman poi wonder woman nella snyder cat non ha un arco narrativo nella we don cat si nella we don cat a un sacco di scene con batman e togliendo le scene di wonder woman ha tolto anche le scene di batman alla faccia della caratterizzazione in più in cui bruce wayne le faceva presente le faceva un po la ramanzina ma tu che ti sei nascosta dal mondo dell'umanità per secoli spunto di trama di snyder perché non torni e diventi la guida del genere umano lei rimaneva lì un po interdetta al termine del film finalmente decideva di imbracciare questo suo destino e diventava una super eroina pubblica che si rapportava col pubblico c'erano dei bambini lì come simbolo anche in questo caso di ingenuità con quelle si rapportava nella snyder cat che dura il doppio tutto questo non c'è wonder woman non ha un arco narrativo andiamo avanti acqua man ora che i personaggi di we don fossero delle macchiette lo diamo per assodato ma c'è il problema opposto cioè qui acqua man viene azzerato cioè viene inserito in un contesto in cui tutti sono simili come era l'acquaman di we don un po troppo caricato diciamo la verità pur essendo effettivamente un dio acquatico era il cosiddetto personaggio down to earth cioè quello che serve a volte per il pubblico per accettare le cose più strane cioè questi parlavano di resurrezioni di superman e le diceva o ma che è stata di c'era quel personaggio lì non solo era anche un po l'archetipo di quello che sembra molto duro roccioso ma che in fondo in fondo al cuore di panna gli fa piacere stare lì con tutti nella wii nella snyder cat questo non c'è acqua man è serissimo è sempre d'accordo con tutti gli altri è esattamente come tutti gli altri un dio tra gli uomini non si distingue più dagli altri chi è acqua man rispetto a superman a flash oltre a beh sappiamo che al background atlantideo ma a livello di caratterizzazione per quanto da a livello di dinamica di gruppo cosa fornisce in più non ne idea mancano del tutto nella snyder cat i contrasti interni al gruppo tutti i personaggi sono sempre d'accordo non c'è una scena di team building che sia una perché servono i contrasti all'interno del gruppo perché innanzitutto un team che si forma un po per per forza alcuni non lo cercano neanche e soprattutto perché nelle battaglie verbali tra i personaggi emerge la caratterizzazione qui non c'è mai mezzo dubbio e la scena simbolo è la resurrezione di superman che nella we don't cut che dura meno è fatta meglio snyder invece ci mette più di una forzatura la resurrezione di superman perno centrale del film lasciamo da parte il fatto che la we don't cut c'è un montaggio musicale di due minuti a ralenti che pareva di snyder invece non lo è e paradossalmente we don't ha fatto snyder meglio di snyder c'è quel montaggio lì segue lo stile di snyder snyder non l'ha fatto usate i montatori sono diversi ed è fondamentale perché quel montaggino lì serviva a far percepire la morte di superman qui nella snyder cat per tutte le prime due ore interminabili questo elemento della morte di superman non si percepisce non vediamo mai come sta la popolazione come la gente ha accolto questa notizia non lo vediamo mai a un certo punto d'amblè resuscitiamo superman con grande fanfara nella we don't cut wonder woman non è d'accordo a come dice boh ma questi sono pazzi nella snyder cat tutti d'accordo interessante che approfondimento della situazione come funziona la resurrezione che poi ha anche una ringa finale prima puoi andare avanti a me la vera te lo volevo solo dire sì 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 come funziona la resurrezione in entrambe le versioni versioni di we don't si introducono nel laboratorio in gran segreto wonder woman non è troppo d'accordo e dice a batman o ricordati comandato ultima volta se superman ritorna in vita e ti vede poi ti attacca quindi rimane un po defilato loro lo risuscitano superman prevedibilmente si incazza e qui viene mostrata posto che il bat che il bat fleck non mi piace ma viene mostrato un lato strategico del personaggio perché lui cosciente che superman potesse incazzarsi ha preventivamente informato lois lane che arriva sul posto appositamente per volere di batman per calmare superman questa è la versione di we don't la versione di snyder entrano nel laboratorio quando ancora pieno di gente cioè questi entrano in pieno giorno non in segreto sono ancora tutti via lavorare per puro culo incontrano il padre di cyborg si trova lì per culo è perché dopo gli incidenti che stavano succedendo decidono di evacuare laboratorio lui per caso ancora lì a pigiare al computer quindi lo incontrano casualmente batman non c'è il dialogo con wonder woman batman si defila e non si sa bene perché superman torna in vita e lois si presenta sulla scena casualmente casualmente batman non l'ha contattata non si sono messi d'accordo prima quella passa per caso se lois non fosse passata di lì la justice league era morta quindi in un film che dura due ore in più abbiamo sostituito un colpo di scena che caratterizza un personaggio batman con una forzatura narrativa con due ore in più però di queste cose non si parla manca poi vado a chiudere adesso sarò molto sbrigativo nella versione di we don c'è c'è il clock c'è il ritmo incalzante perché steppenwolf non è vero che non si sa contro chi combattono i parademoni steppenwolf si manifestano subito immediatamente conquistano due scatole questi devono fare in fretta c'è la justice league si assembra perché hanno fretta batman la sembra perché il mondo sta finendo c'è bisogno di gente nella snydercat questo non c'è se la prendono comoda batman forma la justice league perché morto superman ci va molto piano forse ci sono gli alieni steppenwolf ci mette due ore di film a trovare le scatole tutto molto lento tutto molto così ci abbiamo il tempo di e si conoscono detto tutto non c'è la minaccia anche perché lo ripeto il cattivo si vede ogni 50 minuti che presenza incredibile poi vorrei far presente a giovanni che batman sarà anche un vecchio ma nel film prima sconfitto superman da solo e sente l'esigenza di aver bisogno di albergo a sconfitto superman da solo da solo da solo da solo da proprio lo pesta lo pesta vero mi ricordo io ho finito per ora perché poi questo è il fulcro c'è del mio discorso che la we don't care sia superiore vai vi ricorda allora c'è nel senso hai detto delle cose che non sono vere molto semplicemente il fatto che acqua man non sia d'accordo non è vero anzi se vogliamo guardare è l'unico insieme al cyber che ha dei dubbi e viene espresso anche nella scena con flash al cimitero non si oppone perché capisce che è l'unica occasione che hanno e l'unico non si oppone non si oppone per quel motivo lì perché sa che un vero ma non si opponeva si parliamo di quello quando si oppone di una scena i due minuti completamente caso che finiva così allora io preferisco la senza le cose mi devi trattare il conflitto di merda preferisco l'assenza del conflitto perché non è che allora se c'è presenza del conflitto va bene a prescindere da come il conflitto sia stato creato quello non era un conflitto era una scaramuccia da bambini di due anni risolta in due minuti allora se lo devi far così di merda fammi un favore prendilo tirano l'eccesso e tira anche la catena perché non assolutamente non parlo più lo giuro mi ti lo giuro sei chi doveva approfondirla di più snyder con due ore in più a disposizione l'ha approfondita di più tutta la parte di super ma non c'è tutta la parte di super c'è e come se c'è ed è assolutamente approfondita è semplicemente gestita in maniera diversa passa almeno una mezz'ora a cercare di capire come resuscitarlo e se giusto resuscitarlo perché comunque i dubbi ci sono lo ripeto e soprattutto c'è tutta una scena molto più lunga c'è molto più focus sulla resurrezione superman che nel finito avveniva a cuor leggero a parte quel conflittino del cacchio che serviva solo per far vedere che c'era un conflitto ok e soprattutto lois non vale a caso lois va lì tutti i giorni lo ha detto era andata lì sta per andare via siccome con le vicinanze vede superman che vola perché guarda caso superman ha questa capacità di volare e quindi si vede perché fa un casino fanno un macello della madonna sfonda una cupola penso che uno nelle vicinanze lo sente il muro che viene sfondato e vede sto tizio chi sarà mai sarà un uccello sono no è superman guarda caso quindi quella scena non è assolutamente a caso è molto è molto semplice la questione peraltro peraltro in questa versione c'è un dettaglio su lois che è abbastanza importante ovvero il fatto che è incinta il test di ravidanza che ti mette un'altra cosa un altro spunto che la versione wedon non offriva di sicuro non lo faceva in questo modo un film questo secondo me che non è vero che toglie ma semplicemente gestisce in maniera diversa gestisce in maniera diversa in quattro ore approfondisce cosa che fin di wedon non faceva tant'è vero che cyborg qui è un personaggio enormemente più approfondito e appare essere quasi il vero protagonista se vogliamo stare a guardare perché ti approfondisce di più il suo rapporto con il suo nuovo corpo con il fatto di aver sfiorato la morte e forse di averla desiderata anche e tra l'altro c'è anche un altro aspetto la questione di superman superman non recluta le persone a caso la questione del parademone scusate la questione il parademone era molto ti da scalica semplicistica certo era era strasemplicistica poi invece lui fa una cosa importante che non faceva nel film di wedon mostra della redenzione perché lui si sente in colpa per non aver accettato di collaborare con car fin da subito di aver causato la sua morte quindi lui continua a dire che sente che sta arrivando qualcosa e che ha bisogno di creare una squadra perché superman è morto è vero che lui l'ha preso a cazzotti ma vorrei ricordare che l'ha preso a cazzata cazzotti dopo qualche minuto questo è diventato di nuovo praticamente duro come l'acciaio e gli faceva un mazzo così se non fosse stato poi per quella scena vabbè poi c'è stata coincidenza che entrambi le madri sia di superman che sia di clark kent che di batman bruce wayne si chiamano marta c'è questo momento in cui a un certo punto mentre batman super si stanno tirando delle pazze da da orbi esce fuori il nome della madre di uno dei due che quindi diciamo porta un momento di pausa nella narrazione perché l'uno non capisce perché sta nominando il nome di sua madre senza sapere che ragazzi ancora peggio sì alla linea stazione è una rissa alla linea stazioni in concerto punti dico il nome di tu madre tutte fermate perché hai detto io ho detto giovanni dici zi no 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 io finendo quindi un uomo in nome di tu madre tutte fermi o da cortelle e t'ammazzo questo è un po così quindi superman e batman finisce così vabbè ok poi c'è tutta la parte dopo che va comunque stavo dicendo tra l'altro la questione quattro terzi io non so se quel senatore sia una scusa lui ha detto semplicemente che secondo lui questi supereroi rendono meglio su una verticalità piuttosto che sull'orizzontalità posto che è la visione del regista piacere come no a me quattro terzi non è fastidito minimamente neanche mi sono reso conto di averlo visto in quattro terzi ti dico la verità cioè non mi ero talmente preso dalla naturalmente preso dall'azione che francamente cioè molto meglio dei film che sono di me che sono girati un po in 16 9 un po in quattro terzi di sì che vomiti a meno qua c'è la scelta coerente una scelta anche coraggiosa perché mandare un film è vero io mi ricordo l'ultimo transformers sono d'accordo sono d'accordo orizzontale praticamente ma che cazzo sta succede e ho detto boh si è rotto il proiettore ma al di là di baker non c'entra niente in questo discorso la scelta del quattro terzi è secondo me molto coraggiosa perché è il perseguimento di una scelta artistica io le scelte artistiche rispetto poi si possono apprezzare come no ma è molto più coerente di tanti altri registi perché gli hanno permesso di portare a termine la sua visione una visione che peraltro ricordo nasce dal dolore del momento che stava provando e secondo me si vede tutto l'impegno che ci ha messo si vede che ha riversato ogni briciolo delle sue energie artistiche in questo progetto perché di fatto l'ha fatto per cercare di superare il dolore per il suicidio della figlia ora non è che questo deve rendere il film per forza bello però mi incute un fortissimo senso di rispetto perché ci ha messo dell'impegno ha cercato di portare una sua visione che di fatto è coerente perché ad esempio ci possiamo lamentare del fatto che anche qua quando un uomo non uccide certo uno si può lamentare a me non fa impazzire ma al terzo film di snyder con superare che uccidono mi metto anche il culo in pace e poi vorrei citare la scena di flash sul finale che è una cazzo di bomba visiva quella scena di flash sul finale che riavvolge il tempo è qualcosa di mostruoso si possono criticare tranquillamente gli slow motion quello che volete è la sua visione artistica che potete tranquillamente contestare a me non dà fastidio anche perché conosco snyder a me piace snyder erano pronto su quattro di film a parecchi pensavo fossero di meno onestamente però va bene cioè nel senso so che lui è fatto così più due film più sono gli slow motion non è che ci si potesse aspettare poi così tanto di meno sta di fatto che a me con la scena è piaciuta da morire ce l'ho trovata sensazionale e non ho trovato neanche cringe che è una parola che odio come dicono tanti quella in cui salva iris west perché mo affarre più stelle oddio affarre più stelle affarre più stelle non è che fare più stelle e se lo fina nel senso affarre più stelle e poi dopo l'utilizza per risolvere la situazione che poco prima lo aveva messo in difficoltà quindi è una scena che ci sta e non con non dimentichiamoci che il flash di questo film è il 90 per cento in meno irritante rispetto a quelle guido sono parire così le 95 a bene sono sparite quindi secondo me è un film che avrà i suoi difetti ma è una visione artistica coerente e punta del regista io per questo ho solo rispetto per questo film punto io già prima andare avanti poi io ci tengo a sottolineare che sicuramente di quei milioni che hanno speso non li hanno utilizzati per la colonna sonora di wonder woman ogni volta che c'è wonder woman hanno messo una giunta i cori gregoriani che mi ha fatto molto non ci sono a me piace purtroppo è un dio cantano un video ci sta fino a partire da questa cosa che ha detto gianni e giovanni sarete più brevi ve lo dico adesso anche perché io voglio ragazzi mi dovete togliere un dubbio tra un po però voglio partire un attimo da questa cosa che ha detto victor allora io ho rivisto proprio ieri la la we don't cut e credo che tra tutte le battute di flash sono mantenuto praticamente tutte cioè tutte le battute che vediamo nella we don't cut sono quasi tutte mantenute nella snyder cut quasi tutte sono tre o quattro battute che non ci sono però tutto il resto ci sono sono le identiche perché tu l'hai percepito meno diciamo come posso dire meno più bello rispetto a quello che è il mio ritardo meno irritante ecco mi sembra fatto che è diluito quindi la battuta viene inserita in un lasso di tempo maggiore ok quindi tutto tutte le battute di flash sono diluita anziché essere tutte ravvicinate perché il film dura di meno ok adesso io voglio dire una cosa voglio che mi spiegate questa cosa perché sinceramente io non l'ho capita l'equazione anti vita allora a un certo punto di questo film si parla si fa si vede steppenwolf che parla con le scatole madre dice mi volete mostrare qualcosa mette la mano nella scatola madre è a un certo punto si ritrova in questo luogo che parrebbe lo stesso luogo della premonizia scusa del della 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 narrazione che aveva fatto wonder woman di quando hanno sconfitto dark side giusto confermate a un certo punto lui sbatte la lascia nel terreno e si mostra questa cosa di lava e dice l'ho trovata è qui ma io non ho allora innanzitutto questa cosa dell'equazione anti vita non me la spiegano e io ancora oggi non ho capito che cosa sia se le atti fumetti è più clara di sicuro è capito però spiegano si dicono che è un modo per controllo ok non ti dico la sua funzione dico che chi chi che c'è stan sta sulla terra ma è sulla e nella terra perché dice è nella terra e non è in una persona e nella terra no perché scusa scusa guarda io me la sono segnata questa battuta perché dice l'equazione anti vita è incisa sulla superficie di questo mondo primitivo dice questo è l'ho segnata ma alla fine dark side l'aveva già trovata perché era la stessa scena che si vede all'inizio comunque sia victor questa è purtroppo devi convenire con me su questa cosa che è spiegata malissimo cioè proprio realizzata male 4 una persona che non ha letto i fumetti io io l'ho letto qualcosa di batman però della justice league diciamo ho letto kingdom come come unico grosso fumetto loro e io sinceramente non ho capito e a me dà fastidio una cosa del genere perché non è una sequenza dove titoli di coda come può essere in avengers che vedi semplicemente tano se e ti incuriosisci per la cosa è proprio una sequenza inutile perché prolisse lunga e non si lasciano ma sì ma come posso dirti ma bene in un contesto sbagliato ma giovanni giovanna uno che non ha mai da uno che non ha mai lette fumetti quando hanno cominciato a parlare di questa cosa è l'equazione antivita o semplicemente capito che per loro per il cattivone di turno è una roba molto importante che finalmente riuscire a trovare sulla terra quello che ho capito da una persona esatto da persona che non ha capito cosa sono i fumetti immagino semplicemente che sarà qualcosa qualcuno di molto importante che vedremo più avanti nella storia punto non mi interessa che non viene spiegato per filo e per segno che cos'è un altro cazzo ancora all'interno di questa storia che è una cosa che viene inserita palesemente per poi procedere da un'altra parte viene aperto un altro un'altra linea narrativa intanto risolvono il primo cazzo hanno aperto una linea narrativa che poi più avanti verrà sviluppata finito il film non si continua a parlare di questa equazione antivita cioè se ne parla solo come una cosa incredibile che serve e che sta lì finito il film sapendo già e anche non sapendo che comunque è il primo di quello che dove essere un prodotto che dove essere una trilogia immagino che se ne parlerà più avanti non è che per forza mi devono spiegare tutto entro la fine del film ma non è questo che voglio dire ho capito però tu hai detto che non hai capito che cosa è l'equazione non crea confusione non crea confusione perché si capisce perfettamente che è un qualcosa io non ho letto i fumetti non so cosa sia è un qualcosa che per questi personaggi è importante e che sapendo che ci sono altri film dopo verrà sviluppata più avanti punto e basta poi un'altra cosa la situazione dei rallenti onestamente ragazzi ma l'abbiamo visto 300 che gli spartani andavano alla velocità della luce cioè il rallenti è palesemente come abbiamo detto più volte una è palesemente un'espressione che utilizza a livello cinematografico zack snyder posizione però ok adriano però se tu vedi le scene se tu vedi le scene di flash che va super veloce non è solo flash che va super veloce l'audio cambia ci sono i fulmini cioè è legato si si gianni siti compro le casse per la televisione la c'è è tutto il fulmini gianni gianni la super velocità di flash è tutta quanta mostrata in un determinato modo il resto le altre scene a rallenti sono totalmente diverse è un rallenti narrativo per la scena per enfatizzare alcuni momenti ora non si mischia no assolutamente perché se tu vedi flash che prima di cominciare a correre super veloce gli appaiono i fulmini da tutte le parti comincia a correre il rallenti ancora più esagerato degli altri rallenti è molto più lungo e c'è flash inquadrato che corre come uno stronzo quando tu vedi gli altri rallenti dove l'audio non cambia non c'è niente di incredibile si capisce che sono solo espressione narrativa del film perché snyder ragazzi 300 porca puttana che cazzo era tutti a rallenti e tutti super veloci andavano pure lì snyder gira così gli piace girare così e ce lo ripropone pure qua poi io sono assolutamente d'accordo con vic perché ripeto e chiudo voglio sottolineare la cosa che ha detto victor alcune quelle che sono le mancanze o le cose che secondo mattia matioschi sono semplicemente cose che ogni tanto succedono a caso non è vero è semplicemente che vengono il punto di vista è diverso vengono raccontate in un modo diverso e quindi quando guidon ti deve sottolineare tutto perché secondo lui parla un pubblico di decerebrati che non capiscono le cose snyder divide il racconto di ogni singolo evento semplicemente in maniera diversa molte cose te le suggerisce non te le sottolinea e questo a meno ripeto a mio parere non è un difetto anzi mi piace sentirmi raccontare delle storie io voglio essere attivo quando vedo un film e quando mi raccontano delle cose non voglio essere totalmente passivo seduto sul divano o sulla poltrona nel cinema con un rincoglionito spiegami tutto per filo e per segno ci sono molte cose che snyder per come le ha chitta in tutto il film ti vengono raccontate ti vengono suggerite per quanto riguarda invece nella questione di widon è batman chiama lo slain come valvola di sicurezza arma di sicurezza se superman si incazza è banale è stupido è brutto è dai su ma è funzionale allora allora vai vai che dici marco vogliamo lanciare facciamo partire il sondaggio intanto io ringrazio delle persone che è andrei u 89 che donando un euro dice ricordiamo che la visione artistica di snyder c'è un cane che abbaglia rallenti senza motivo io leggo quello che rischio rossano cino sì sì c'è alfred che versate a dieci secondi così in quale buoni buoni devo leggere rossana dona 5 euro dicendo grazie per farmi amare sempre di più il cinema e questa è la cosa più bella ragazzi che potete sempre dire bella cardana ha regalato cinque abbonamenti quindi grazie mille cardan e c'era qualcun altro che ha regalato un abbonamento a anto 03 20 ha regalato un abbonamento a lucida no lucida follia ha regalato un abbonamento quindi grazie mille grazie a tutti quelli si stanno abbonando e quindi adesso direi che possiamo lanciare il sondaggio metà tempo di sondaggio partito ragazzi a matioschi e metà tempo i sondaggi a vittor questo è la pianese voglio leggere questo commento release slow motion cut e comunque da mare che c'è una scena dove loro salgono le scale gianni è dove legge sul commento tu stai parlando di un taglio all'interno di ragazzi io voglio cercare di rispondere un po tutto quello che è stato detto in rapida sequenza allora lois andava lì tutti i giorni stiamo scambiando una scelta strategica di batman che in questa saga non è mai stato presentato come un intelligente una volta che fa una roba intelligente scambiamo la sua scelta con eh ma lei andava lì tutti i giorni loro che cazzo ne sapevano se lei quella mattina ci aveva il cagotto tutti morti poi per rispondere ad altre cose mi è stato detto che eh il nightmare vale la visione del film quindi vale la visione di questo film una scena che ti parla di altri film eccellente poi ehm è interessante capire cosa è successo tra due destro a me sembra l'opinione di qualcuno che comunque conosce bene o male i personaggi io sfido la sciura di voghera a vedere un personaggio introdotto in un modo e due secondi dopo te lo presenti in un altro quale fascinazione scoprire cosa è successo tra due momenti mi sembra che molto spesso è stato detto il punto di forza che ci sono aperture verso il futuro va bene il film in quanto tali invece cioè è tutto aperto verso il futuro sì ma il film non sappiamo neanche se ce ne saranno altri il film quale valore ha questo film oltre alle aperture verso il futuro cyborg caratterizzato aveva già un motivo di esistere nella we don't cut sono stati tolti dei dialoghi abbastanza carini come lui che volava davanti al padre gli diceva la vedi questa cosa non sapevo neanche di poterla fare veniva evidenziata la sua natura di freak nella we don't cut era lui che andava a cercare gli altri quindi dimostrava anche di sapere interfacciarsi con le varie interfacce della rete e tra l'altro anche qui è privato un arco narrativo perché nella we don't cut quando superman e cyborg riescono a sciogliere il collegamento tra le scatole madri i due si danno in una risata liberatoria un personaggio cupo che per tutto il film aveva avuto voglia di morire alla fine ride questo nella snyder cap ovviamente non c'è il fatto che tantissimi fan l'abbiano apprezzata non è indicativo tantissimi fan apprezzavano i cinepanettoni step and wolf la caratterizzazione in più ha un debito con dark side qual è questo debito chi se ne frega mi è stato detto così con quattro ore a disposizione chi se ne frega questa è la caratterizzazione più approfondita del villain dark side è inutile la presentazione del super cattivo del thanos di questo universo arriva ce lo fa vedere nel passato e perde perde contro ares che un personaggio già sconfitto da wonder woman quindi per la proprietà transitiva se wonder woman ha sconfitto ares da sola wonder woman può sconfiggere dark side da sola ottima presentazione per questo grande personaggio il problema di ralenti è che se tu sai che in un film per caratterizzare un personaggio lo muovi a ralenti che cazzo fai dieci minuti di ralenti deve essere la caratteristica di quel personaggio lì non anche di scene a caso anche perché se fai ralenti su ralenti la particolarità del personaggio si perde è come farmi un fumetto tutto di splash page allora quindi ho apprezzato vai finisci ti fermi facciamo così fermi victor adesso può rispondere così al tempo per convincere la gente ancora che può votare poi dopo mi fermo mi fermo non ho bisogno non ho bisogno di smontare così perché io ho una parola sola che riassume questo film e che fa capire perché è migliore quello di guido mitologia i fumetti hanno una mitologia la stessa mitologia che snyder è riuscito a ricreare in questo film dando possibilità a spin off e seguiti dando la giusta caratterizzazione a questi personaggi per la sua visione che è quella di dei mitologia è l'unica cosa che serve per capire che questo film è migliore quello di snyder perché quello di snyder è quello di scuola quello di wedon quello di wedon non aveva mitologia era una narrazione raffazzonata che a me piacque solo perché era la prima volta che si vedeva una justice league live action e basta questo film mette in scena degli dei che hanno problemi umani e ultraterreni è mitologia l'unica cosa che bisogna tenere a mente per capire il perché questo questo film sia migliore quello di guidon quello di guido e nero un copio ancora aveva un incollamento con lo sputo questo pur con tutti i difetti mette in scena la mitologia fine basta mazza che rapidità comunque il sondaggio è finito adriano lo vado a leggere allora già si vado ma già assist league parliamo della l'opinione portata questa sera dal grande buon matioschi è la guidon scat è migliore della snyder cut hanno votato 3 4 5 115 persone su mille e passa millenove 60 e 40 il 60 per cento dice no il 40 per cento dice sì quindi per la chat e la we don't cut non è migliore della snyder cut più combattuta di quello che credevo comunque sì effettivamente grazie a parte ragazzi discussione pazzesca e poi veramente sono convinto che queste sono le discussioni che comunque portano la gente a vedersi la snyder cut se non la cosa secondo me quindi no infatti ecco volevo dire quello nel senso a questo punto non so che fare perché io voglio vederle tutte e due ma a questo punto che se le vedo al contrario secondo me c'è senso prima guarda guarda l'ordine uscita secondo me potrebbe avere senso guardo prima si può avere secondo me se si vuole avere una visione con una visione giusta di una cosa la guardi come uscita ovviamente fai quello che poi si può puoi fare se no puoi fare vedi due ore di snyder cut poi vedi due ore non scatta e poi due ore di snyder cut esatto così che dice capisco che un cazzo no allora è ovviamente dalla mia posizione siete stati molto tecnici nel senso che avete parlato proprio di cose specifiche quindi per me era difficile non avendo visto nessuno di due restare agganciato però ho cercato di manti a ogni volta ascoltare al senso di quello che cercavate di dire quindi che ne so lo isle per farvi l'esempio l'esempio di lois lane che nel film di snyder non si non viene detto perché lei passava di lì invece se non fosse successa questa casualità sarebbero morti tutti io cerco di andare a capire quindi il senso ma non è una casa ma non è una casa cioè lei andava lì ogni giorno lei andava lì mi facevano una cosa mi sembra loro ma cosa mi sapevano loro ma se lo dico a un certo punto ai ragazzi quando no victor dice matt mattia dice quando come lo facevano sapere loro eroi cioè batman non noi spettatori ma non c'è ragazzi quindi non lo ragazzi perdonatemi e mi hanno rotti i maroni sul mio canale anni per il topo di endgame questa è la stessa identica cosa se lois non passava di lì per gli affari suoi tutti morti nella we don't cut non c'è mi spiace il topo di endgame tu lo difendi perché non difendi questo perché il topo di endgame non ha problemi posto che non lo difendo perché per me un problema non l'ho mai difeso io mi ricordo la prima visione al cinema con te e ti ho detto ma no ma c'è questo motore di trama qui l'ho detto io ricordo che se non fosse che dobbiamo giustificare il topo di endgame avviene avviene dopo cinque anni dopo cinque anni dopo cinque anni di disperazione di tutta l'umanità è un evento casuale ordito dal caso va a sconfiggere l'ordine precostituito e forzato di thanos caso sconfigge ordine poi e non avrei mai fatto questa roba del genere ma una scusa c'è qua c'è lois che ovviamente va a visitare tutti i giorni la tomba del marito e fine c'è se quel giorno lì o no sono impegnata oggi e c'è uno squarao e ho fatto il traffico e c'è il temporale tutti i morti vabbè diciamo che allora io vado di pancia ma che trova un altro sistema a proposito di square house di lois vado di pancia e di pancia io do il mio voto alla difesa perché è quella che in qualche modo mi ha coinvolto di più nelle sue nelle sue argomentazioni proprio quando l'ascoltavo dicevano vedi allora cazzo c'è ragione quindi marco è tutto quello che ha collato questa cosa poi alla fine sostanzialmente ha collato a te la divisione allora io parto col dire che secondo me stiamo comunque discutendo di una grossa occasione mancata non mettermi grande ti prego va bene dai volevo farlo stiamo comunque discutendo di una grossa occasione mancata perché stiamo parlando di personaggi che purtroppo non hanno avuto la trasposizione che meritavano che sono personaggi fantastici io credo che come diceva matios che inizio e come ha detto anche un po victor ovviamente questo è un format che poi si basa sull'intrattenimento ma in generale questo tipo di opinione lascia un po il tempo che trova nel momento in cui stiamo paragonando un film che è vittima anche tra virgolette di una produzione gestita la cazzo di cane che ha gestita la cazzo di cane sia quando c'è snyder che dirige sia quando c'è guidon che dirige perché di base guidone sto chiamato a mettere le pezze dove non ci si potevano mette perché se poi serve un film di quattro ore per dare un senso alla roba e a te ti chiedono di mettecene due c'è un problema proprio fisico di base che che non ne esci sono in difficoltà perché per me di base la we don't scat è una rissa cioè quando io sono andato a vedere la sulla we don't scatta al cinema ho pensato vabbè poteva facciamo e dal barcone aspetta che facessero a pizze con le peroni rotte era praticamente quello che ho visto nel film perché non c'è c'è praticamente la soluzione è che se voi vince se voi vince devi sveglia superman perché come ha detto victor superman alla fine arriva gli e dice praticamente guarda l'altro il resto da justice league è come cristiano ronaldo che dice fa come remuta e come cristiano ronaldo che gioca nel treviso tipo gli dice raga vabbè siete deporacci voce penso io spaccar culo a tutti in x secondi da solo questo mega cattivone che era pazzesco in due secondi viene smontato dall'altra parte ma di oschi c'è anche ragione al momento in cui mi dice che la snyder cut a me quello che ha disturbato è che aggiunge dei pezzi ma ne toglie anche c'è perché era così necessario andare ad eliminare delle cose che erano state fatte bene secondo me cioè io ci sto che tu devi allungare c'è la tua visione però anche un minimo di rispetto per la visione di un professionista che l'ha dovuta mettere in atto a un certo perché no è zack snyder justice league rispetto di cosa secondo me ci sono delle cose fatte bene la suite non ha capito il rispetto aspetta aspetta ti dico perché rispetto non inteso nel fatto che snyder ha spuntato in boha in faccia a we don il punto è che se tu vedi il film di we don ci sono delle cose che oggettivamente sono trattate meglio alliello di personaggi di quelle di snyder e non era necessario andare a togliere in quattro ore potete semplicemente aggiungere e avevi comunque risolto il problema quindi e we don e we don che ha cambiato quello che ha fatto snyder non mi c'è ma guida non ha cambiato che ha fatto snyder perché la produzione perché guida la produzione stanno gli dia dai ragazzi facciamo tutti siamo siamo d'accordo siamo d'accordo ma non chiamano per fare quello era già girato rispetto di cose non hai capito però il punto è che lì c'aveva due ore quindi qualcosa da togliere per forza mentre snyder le cose che funzionavano e che oggettivamente ci stavano nel film di guido non poteva lasciarci e tipo bambini ragazzi ma non è mai su perché 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 poi perché sono fatti meglio perché poi sono fatti male di un fatto non è caratterizzato di merda ma sono girate da guidone si chiama snyder scusate ma che ma che discorso è no ma non è capito il discorso praticamente allora diamo il voto però e poi continuiamo a parlare sarebbe stata la fusione dei due forse ma non era quello l'intento infatti nella vera poi secondo me c'è da dire che la snyder cut ha creato un pericoloso precedente secondo me perché in questo comunque alla fine della storia chi vince in questo in questo gioco è la produzione che prima che gestendo comunque tutto di merda ha incassato molti più soldi di quelle doveva incassare perché ha preso un regista l'ha trattato del cazzo l'ha proprio trattato di merda l'ha mandato a fanculo ha preso un altro che ha fatto fa il lavoro che doveva fa e ha fatto uscire pure la cat dell'altro regista e quindi noi oggi stiamo discutendo questa cosa e quelli che vincono sono è il banco essenzialmente cosa mi ha fatto rosicare tantissimo perché adesso mi aspetto che già si vociferava della della suicide squat cat c'è proprio certo di no però sono pratiche di cui non si sa bene anche parlare secondo me per cui marco allora io premio sai cosa premio io premio il regista secondo me secondo me è giusto che c'è in questo caso per cui io non voglio dalla vinta la produzione per me snyder c'è una sua visione che forse se avessi avuto la possibilità di portarla avanti anche in due ore anche in due ore e mezza magari avrebbe arrivato fuori qualcosa di più fico mi fa incazzare il fatto che tu produzione non sei in grado di prendere un progetto darlo a una persona affidarti a quella persona e fargli fare il suo lavoro siccome mi vivo questa cosa da casa di produzione che spesso ci capi a dover subire le scelte di chi sta in alto che spesso sono abbastanza cieche io dico che la snyder cat è migliore della windows cut ma partendo a presupposto che per me comunque sono due film mediocri e comunque io protesto vivacemente no poi fatti adesso solo perché la produzione ma tu è ma tu però non stai giudicando la contesa tra le parti che abbiamo avrà la contesa dalle parti secondo me ve lo dico ragazzi sono serio lascio aperte giovanni e gianni che non lo neanche ascoltati a c'è nel senso io palleggiavo da una parte dall'altra perché oggettivamente è quello che è perché entrambi avete evidenziato difetti di entrambe le cose che sono palesi ed evidenti facciamo una cosa di solito in questo format c'è il posto opinioni pericolose non so se vogliamo farlo visto che già mezzanotte facciamo un minuto a tutti per andare in bagno via se da magna a fare qualcosa vic matioschi voi volete rimanere altri dieci minuti perfetto allora ragazzi tutti in bagno un minuto di pausa ci vediamo fra pochissimo dai ciao 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 Grazie a tutti.